ci siamo tutti ciao a tutti ciao simone ma graziano c'è o no che era collegato graziano c'è sono stato il primo a collegarlo ok ok va bene ok allora direi che si può cominciare stiamo già registrando sì 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 antonella te lo chiedo a te per conferma sì sì si sta già registrando ok pensando sì sì presentazione abbiamo abbiamo davanti quindi un percorso che ci ci metterà di davanti alle tematiche che sono emerse dal confronto del piano con da parte dei cittadini e in ragione di questo come già ho anticipato ai commissari la prima parte delle sedute che affronteremo riguarderà diciamo la preparazione lavoro preparatorio e di approfondimento di quelle che sono le tematiche emerse cioè l'ufficio nell'istruttoria e l'architetto cinquini hanno in sostanza categorizzato le osservazioni che che sono state presentate dalle dai cittadini ne hanno fatto un istruttoria e hanno individuato le tematiche ricorrenti in modo tale da poter facilitare sia il lavoro e organizzare sia il lavoro di istruttoria sia anche quello di presentazione nelle nelle commissioni sapete che il piano operativo ha suscitato un interesse significativo nella nella nostra opinione pubblica numerose sono state le osservazioni più di 600 di queste in ragione anche della della disciplina del piano si riconoscono caratteri comuni e intervento la proposta di modifica o appunto di osservazione su alcune macro categorie con cui la struttura del piano è stata condotta cominciamo quindi con questi primi quattro appuntamenti già concordati con i commissari per le prossime date che hanno l'obiettivo di presentare queste quattro categorie di osservazioni che vengono presentate quelle di modifica normativa quelle che riguardano la classificazione cartografica quelle che riguardano la classificazione degli edifici soprattutto per quel che riguarda il patrimonio rurale e le schede norma le schede norma che riguardano le nuove le visioni io a questo punto lascerei per non perdere tempo la parola all'assessore se vuole integrare in qualche modo e poi direttamente all'architetto cinquini per la presentazione del lavoro sì buonasera a tutti il percorso che ci attende l'ho già descritto il presidente di commissione io credo che al di là diciamo così di un'illustrazione di carattere generale possa essere utile appunto in parte già lo stava facendo Jacopo Menchetti può essere utile in pochissimi minuti dare così un quadro del lavoro generale che è stato svolto dall'ufficio per poi magari sulle osservazioni che riguardano le norme generali indicare alla commissione diciamo quali sono almeno diciamo per temi le questioni le novità più significative in modo tale che poi assieme all'architetto cinquini si possa magari fare un'analisi diciamo del testo che viene fuori dalle dalle osservazioni soprattutto ecco nelle parti in cui i commissari ritengono necessario un approfondimento una discussione rispetto alle novità introdotte perché noi abbiamo appunto vari tipi di osservazioni un gruppo che è quello diciamo su cui comincia il lavoro della commissione oggi sono le osservazioni alle norme di carattere generale le norme di carattere generale lo ricordo anche diciamo così per eventuali cittadini che siano all'ascolto sono le norme che disciplinano sostanzialmente le regole di intervento sul patrimonio edilizio esistente che tra l'altro riguardano la stragrande maggioranza dei cittadini anche la stragrande maggioranza degli interventi edilizi che poi un comune diciamo si trova a gestire e a rilasciare poi abbiamo un gruppo di osservazioni che riguarda le cosiddette scade norma le scade norma sono le previsioni puntuali di trasformazione più significativa che sono sul nostro territorio che sono previste nel piano operativo adottato con le scade norma si regolamenta tutto il fenomeno della nuova edificazione che è sempre connesso lo ricordo a forme perequative o compensative a favore del comune e si disciplinano gli interventi di recupero quelli molto consistenti perché gli interventi ripeto di su patrimonio edilizio esistente sono regolati dalle dalle norme di carattere generale poi ci sono alcuni grandi volumi che sono oggetto di previsioni di recupero di rigenerazione urbana e quelli sono disciplinate da questi da queste schede norma come come sapete che sono anche quelle che disciplinano gli interventi di nuova edificazione per fare un parallelo col vecchio regolamento urbanistico se qualche tecnico fosse all'ascolto adesso nelle schede norma sono riassorbite quelle che una volta venivano chiamate di due o piani attuativi o comparti quindi questo è il secondo gruppo di osservazioni un primo gruppo e sulle norme generali e un secondo gruppo e sulle schede norma poi abbiamo varie osservazioni di natura cartografica le più diciamo se si volesse fare delle tipologie se ne potrebbe individuare due o tre di tipologie una parte riguarda tutto il tema della classificazione del patrimonio edilizio in particolare la classificazione del patrimonio edilizio storico nel territorio urbano e anche nel territorio rurale un altro gruppo di osservazioni riguarda diciamo così richieste di modifica agli ambiti di riferimento soprattutto nel territorio urbanizzato dei vari edifici voi sapete che nel territorio urbanizzato non c'è una resede geometrica la resede è il terreno diciamo che è intorno all'edificio che sta diciamo nel territorio urbanizzato ci sono molte osservazioni che ci hanno chiesto diciamo qualche qualche modifica che quando era modesta e ammissibile è possibile farla quando invece significativa no perché diciamo il confine fondamentale che è quello fra territorio urbano e territorio rurale definito dal piano strutturale quindi in serie di piano operativo si possono fare dei piccoli ritocchi ma non si possono fare delle modifiche significative comunque una serie di osservazioni riguardano questo tema cioè diciamo il confine fra territorio urbano e territorio rurale appunto sulla base di modifiche che si possa che si possono fare a questa scala che è quella del piano operativo perché a volte questo può incidere sulla sull'ampiezza della resede dell'edificio e quindi anche sulla possibilità dell'edificio di attuare concretamente quegli interventi che il piano consente di fare infine poi ci sono varie osservazioni di vario tipo cartografiche a volte sono correzioni di errori materiali altre volte sono richieste per esempio di ripensamento o riverifica di alcune previsioni di opera pubblica no noi abbiamo messo nel piano varie previsioni anche ad esproprio di insomma di opere pubbliche chiaramente alcune osservazioni sono a volte di quei cittadini che si sono visti diciamo in serie di adozione una previsione espropriativa su una loro proprietà questo è un po' il quadro quindi normative sulle norme di carattere generale schede norma sulle previsioni di trasformazione tra cui la nuova edificazione più importanti e cartografiche con questa diciamo varietà ora se siete d'accordo io e l'architetto cinquini ci saremmo organizzati così però insomma siamo a disposizione della commissione io proverei a indicarvi così anche per istituirvi un quadro diciamo così le modifiche più significative più importanti che alla luce dell'accollimento totale o parziale diciamo delle osservazioni avremmo introdotto nella parte normativa di carattere generale salvo poi naturalmente la possibilità di soffermarsi insomma sui singoli articoli anche in funzione diciamo delle esigenze che ha la commissione e che dove deve essere la commissione insomma valutare e per anche diciamo entrare più nel dettaglio perché tante modifiche di carattere normativo che trovate in questo testo che l'architetto cinquini ha già messo diciamo in condivisione sono modifiche anche semplicemente di aggiustamento del testo c'erano a volte dei riferimenti sbagliati c'erano a volte delle carenze delle norme che si potevano scrivere meglio quindi tanti sono aggiustamenti di carattere squisitamente tecnico poi ce n'è qualcuno invece che ha un significato chiamiamolo così politico amministrativo maggiore che chiama anche in causa direttamente il ruolo di chi amministra e quindi io se siete d'accordo vi segnalerei diciamo quelle che mi sembrano essere le modifiche più importanti anche sotto il profilo appunto politico amministrativo per poi insomma lasciare alla commissione la decisione su come su come andare andare avanti in questa parte delle norme delle norme generali che è anche l'unica parte che in questo momento vi è stata consegnata no nel senso che se non vado errato sulle schede norma e sulle modifiche cartografiche il materiale alla commissione li deve ancora essere consegno allora quindi io vi segnalo le modifiche normative più importanti poi la commissione valuterà come come procedere diciamo nell'esame delle diciamo delle ulteriori modifiche è un con un inciso la modalità migliore in ogni caso di lavoro è quella che consente di guardare al testo per come è stato modificato perché se noi seguissimo no l'ordine delle osservazioni voi avete il registro delle osservazioni e ne verrebbe fuori un'esposizione caotica perché perché l'ordine delle osservazioni non ha non è non è un ordine logico è un ordine cronologico molte osservazioni si ripetono cioè una stessa osservazione magari è stata fatta da più cittadini o da più diciamo rappresentanti di categoria nel senso che poi ci sono anche osservazioni che vengono dai cosiddetti corpi intermedi quindi seguire il registro delle osservazioni rischia di non restituirvi un'esposizione chiara il registro delle osservazioni naturalmente serve no a vedere punto per punto come ha risposto l'amministrazione alle varie osservazioni ma non ci aiuta ad un'esposizione che sia comprensibile ecco a tutti quanti anche a chi anche a chi ci ascolta perché ricordiamoci che la commissione pubblica su questo c'erano dei margini di discrezionalità ma noi abbiamo mantenuto quello che abbiamo sempre fatto cioè rendere pubbliche commissioni come fatto di trasparenza e di pubblicità del lavoro che gli amministratori fanno però maggior ragione abbiamo diciamo un dovere di di chiarezza e quindi la chiarezza diciamo forse passa da un'esposizione dei contenuti salvo poi andare a verificare il testo meglio le varie questioni che vorremmo verificare allora la prima credo novità significativa è all'articolo 3 comma comma 8 se non vado se non vado errato perché è perché questa è una delle questioni che ancora prima di iniziare il lavoro di oggi era stata sollevata dai commissari cioè cosa succede se c'è un errore di classificazione in particolare sul sull'edificato sparso diciamo classificato come d'impianto storico e il cittadino magari non se ne ha veduto e non ha potuto fare osservazioni in questa in questa fase insomma capiterà che ci sono cittadini che magari ritengono che la classificazione che abbiamo fatto è una classificazione sbagliata ma non hanno non se ne sono avveduti e non hanno fatto osservazioni allora la norma chiarisce che gli errori di classificazione sono assimilabili agli errori materiali questo è diciamo un assunto che consente di correggerli con un procedimento molto più semplice di quello di una variante urbanistica cioè se i cittadini ci segnalano che ci sono degli errori di classificazione invece di fare una variante al piano che prevede l'adozione la possibilità di fare osservazioni l'approvazione finale e qualche volta anche ulteriori passaggi a seconda diciamo del tipo di variante che si fa in questo modo assimilando gli errori di classificazione agli errori materiali in consiglio comunale ci si va una volta una volta sola perché inserire questa cosa esplicitamente nel piano operativo perché si potrebbe discutere del fatto che un errore di classificazione sia o non sia un errore materiale assoggettabile a questa procedura più semplice non è diciamo una questione chiarissima noi ci sentiamo di dire che quando gli istruttori dell'ufficio certifica effettivamente che la classificazione è sbagliata si possa paragonare questo tipo di errore un errore materiale quindi si possa adottare una una procedura più semplice guardate questo è molto importante tra l'altro l'esigenza l'avevate segnalata anche voi prima che iniziassimo questo lavoro perché soprattutto in questa fase no abbiamo fatto un piano nuovo ci possono essere errori di cui cittadini non si sono accorti e che non ci hanno segnalato attraverso le osservazioni in questo modo è si dà modo a noi stessi diciamo così di correggerli con più con più semplicità perché in ogni caso passa dal dal consiglio dal consiglio poi l'altra novità un'altra novità importante è all'articolo 5 comma 3 mi sembra dopo la lettera biglione si perdonami relativamente a quanto appena detto se non corro rischio visto che non abbiamo la cartografia eventualmente aggiornata tutti quegli errori in blocco che avevamo segnalato i fabbricati che da due erano diventati in uno quelli sono già stati in moto proprio no 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 assolutamente noi non possiamo d'ufficio correggere errori di classificazione in questa fase la legge consente di esaminare le osservazioni non abbiamo nessuna possibilità d'ufficio di metterci a correggere eventuali eventuali errori di classificazione anche perché un cittadino che non ce li segnala potrebbe anche non averci segnalati perché è d'accordo con la classificazione che è stata data qui la cosa circolare simone è che d'ufficio quelle che erano le nostre cartografie di una marea di fabbricati schiedati in due d'ufficio sono diventati uno ecco dico da te scusate non vi prego di non fare diciamo cioè di non confondere piani l'ufficio ha fatto un lavoro che è quello che è stato adottato no noi siamo andati in consiglio comunale abbiamo adottato il piano l'ufficio ha fatto le sue valutazioni diciamo tecniche giuste o sbagliate che fossero credo la stragrande maggioranza giuste ma come sempre accade in questi casi ci possono essere anche degli errori gli errori cittadini ce li potevano segnalare con le osservazioni molti l'hanno fatto tra l'altro tant'è che molte osservazioni come dicevo riguardano la classificazione degli edifici quindi hanno correttamente moltissimi cittadini usato lo strumento delle osservazioni per segnalarci errori o valutazione diversità di valutazioni dei loro tecnici rispetto a quelle fatte dall'ufficio e quelle ovviamente le esaminiamo la legge non ci consente di fare altro in questa fase ma invece ci consente di dire ed è quello che stiamo facendo chiusa la fase di formazione del piano e quindi approvato definitivamente il piano operativo nulla vieta il consiglio comunale periodicamente poi questo sarà il consiglio a dover decidere con che periodicità magari ci potrà essere una periodicità più breve in una fase iniziale ma questo insomma sono valutazioni che si possono fare serenamente diciamo con molta flessibilità quello che consente la legge di dire e guardate un'interpretazione della legge che è favorevole diciamo alla semplificazione procedurale quello che la legge ci consente di dire chiuso il piano no se ci sono degli errori materiali l'amministrazione farà una cosa simile no quella che è stata fatta ora cioè magari dirà segnalati eventuali errori entro una certa data e i cittadini potranno farlo e noi previa un istruttoria diciamo così dell'ufficio e un passaggio in questa commissione come stiamo facendo ora no favorevole potranno essere corretti con un voto solo del consiglio comunale cioè la cosa che noi diciamo è non serve una variante urbanistica per correggere gli errori basta come prevede la legge regionale che lo prevede che gli errori materiali o passaggio in consiglio comunale la cosa che ci sentiamo di dire noi è una classificazione errata la si può anche equiparare a un errore materiale quindi si può andare in una direzione che è di semplificazione perché se una valuta se una classificazione sbagliata non fosse equiparabile a un errore materiale bisognerebbe fare una variante siccome al nostro giudizio un errore di classificazione può essere anche equiparato a un errore materiale e ci sentiamo di dire che si può indicare una procedura più più snella che comunque passa dal controllo del consiglio comunale il che è fondamentale perché sono norme che approva il consiglio e sono norme sulle quali è giusto che sia il consiglio ad avere ad avere il controllo cioè sarebbe sbagliato se fosse un organo diverso dal dal consiglio quindi questo alberto è il massimo che possiamo fare non è una scelta cioè l'alternativa a essere contrari diciamo alla procedura dell'errore materiale è dire che va fatta una variante non esiste una terza possibilità la legge non ce la concede una terza una terza possibilità ma d'altra parte è sempre stato così è non è una non è una novità insomma che gli errori si possono correggere soltanto o con o dentro il piano con le osservazioni oppure con delle varianti la novità vera è che noi diciamo per cambiare classificazione non serve fare la variante insomma se si vede che è un errore basta basta un voto un consiglio comunale guardate non è non era così in passato quanti cittadini si sono lamentati delle classificazioni fatte nel vecchio regolamento urbanistico e non hanno potuto poi ottenere una decisione rapida del consiglio comunale perché serviva serviva una variante c'è stata anche discussione tra di noi sulla possibilità o meno di introdurre questa semplificazione tra di noi intendo nel rapporto fra l'assessore e chi ovviamente deve validare il piano sotto profilo tecnico è il massimo che possiamo fare oltre che guardare molto attentamente ovviamente tutte le osservazioni che sono arrivate su questo su questo fronte simone posso fare una precisazione su questo la cosa che va chiarita anche poi per la futura gestione di questa norma è chiaro che qui si entra nel merito dell'errore materiale cioè faccio un esempio perché per esempio di errori materiali di questo tipo vedrete ne abbiamo accolti molti cioè edifici per esempio lo stato deludere che non si vedevano cartografia che non erano visibili alla foto aerea ma che documentati da foto sul campo da rilievi specifici in effetti esistevano ancora e che quindi non erano stati classificati classificati per errore materiale proprio perché appunto la documentazione che aveva a disposizione non ci permetteva di vederli quello è un errore materiale no cioè è oggettivamente un dato che non conoscevo un'assenza di conoscenza usiamo questo termine non c'è un'assenza di quadro conoscitivo e quindi come tale viene raccolta in automatico no perché appunto è un rudere che non si vedeva semplicemente perché era coperto dalla foresta o non era una documentazione cartografica perché non quindi il rilevatore che ha fatto l'ortofoto e la cartografia non l'ha visto ma di fatto c'è questa è una cosa che non va confusa con una scelta di un diverso criterio di classificazione perché alberto su questo bisogna chiarirci molto molto chiaramente quando dicevi c'erano tanti errori no non c'erano tanti errori c'erano diversi punti di vista su come classificare è una cosa molto diversa è molto diversa e quindi da questo punto di vista anche la norma in futuro deve essere utilizzata in questi temi non è che si può stravolgere come dire i criteri che sono alla base di come sono vengono classificati edifici e quindi come dire l'istruttore che dovrà fare l'ufficio diciamo nel tempo attraverso le segnalazioni anche attraverso forme e pubbliche di avviso eccetera è proprio di questo tipo c'è la constatazione che sussiste un errore materiale di valutazione tale per cui o l'edificio addirittura non era classificato e quindi baci opportunamente classificato oppure la classificazione che era attribuita era stata attribuita era sbagliata semplicemente perché per esempio che sono altri altri casi molto frequenti non viene la documentazione fotografica aggiornata o non si era o è sufficientemente esaustiva per cogliere tutta la qualità del singolo edificio per cui magari non si vedeva che c'era già una parte completamente trasformata eccetera no anche qui vedete ci saranno tante osservazioni magari accolte per cambio di classificazione perché il soggetto interessato magari ha segnalato che c'è stato era stato fatto il permesso di costruire nel frattempo l'edificio era trasformato significativamente a come dire allegato una documentazione fotografica molto più ricca e anche documentale di quella che magari rappresenta nel quadro conoscitivo al punto tale da come dire riscontrare l'errore ecco il metodo deve essere un po questo cioè il riscontro dell'errore passa attraverso un aggiornamento del quadro conoscitivo cioè delle informazioni che ci consentono di dedurre che effettivamente c'era c'è stato una sottovalutazione con errore di valutazione ma sulla base di un quadro conoscitivo e non sulla base di un mutamento dei criteri che stanno alla base della classificazione questo è molto importante perché altrimenti in quel caso si va in una variante urbanistica cioè si riguardano tutti gli edifici perché cambiamo il criterio di classificazione e cambiando il criterio di classificazione si riclassificano tutti secondo diversi criteri in quel caso non è un errore materiale è una variante legittima per carità al piano operativo ma perché cambiano le modalità noi criteri che stanno alla base della classificazione ok io vi ringrazio di questo ulteriore contributo ma la mia domanda era 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 tutt'altra relativa a tutt'altro fatto dico io lo so perfettamente come funziona relativamente alle osservazioni nel periodo così ma se semplicemente ci veniva ci fosse stato detto guardate che tutta la serie di fabbricati che inizialmente erano due e io ve ne porto un elenco infinito di fabbricati che non sono dei passivi di nessun intervento tale quali erano al fa della passata piano strumento urbanistico tali quali erano ora ora che siano cambiati i criteri per valutare se era un interesse tipologico interesse ambientale quando il fabbricato è l'esatta consistenza lo era e non è è questo che volevo capire io se sono cambiati questi criteri domanda uno o due perché a noi avevamo una cartografia dove questi fabbricati erano schiedati in una certa maniera e non ci è stato detto guardate che in questa serie di interventi di correzioni perché mi direte ma sono correzioni di errori cartografici mi si era detto perché a noi non c'è stato detto perché io quando fino all'ultimo al mio cliente gli ho detto gli dicevo e io non sono uno avuto da questa realtà no perché nonostante abbia solamente 21 anni di esperienza insomma qualcuno masticato no al mio cliente mi dicono no è sempre come prima gli interventi sono sempre come prima un caso su tutti mi ritrovo che il fabbricato che non c'è stato fatto assolutamente nulla nell'esatta consistenza di com'era l'ampiamento più fa perché sono classificato di in classe prima ecco ecco qual è il succo del discorso perché se semplicemente e questo ve ne faccio un'osservazione veniva detto in commissione guardate che sono state anche riviste giusto o sbagliato questo starà poi alle osservazioni che uno farà sono riviste alcune categorie uno aveva prontezza di dire ai propri assistiti o ai propri fabbricati di guardare se quello aveva fatto fabbricato io contesto questa mancanza di informazioni che non c'è stata data e tutta la scorta di quello che avevamo siamo andati avanti così era questo non discuto poi della tra virgolette pezza che è stata messa dicendo ragazzi vorrà dire che quando ne avremo un po pochino si ripasserà il consiglio comunale e si rimetteranno discussione era questo il passaggio che io dicevo comunque andiamo avanti è una cosa importante questa qui è perché ce ne sono molti di questi fabbricati però io bisogna scusate la rubidezza con la quale intervengo io che in un piano ci siano degli errori è normale altrimenti la legge non avrebbe previsto lo strumento delle osservazioni le osservazioni ci sono apposta e non è vero alberto permettimi che i professionisti non sapevano che adottato il piano naturalmente devi andare a verificare cosa il piano prevede tant'è che c'è tantissime osservazioni sulla classificazione perché i criteri di classificazione sono per certi versi simili a quelli del passato ma per certi versi no basti pensare semplicemente al fatto che siamo passati da tre categorie no r1 r2 r3 a due categorie soltanto quindi sparendo per esempio una categoria il risultato può anche essere no che un edificio che era in una categoria e magari ora si trova si trova in un'altra poi permettetemi gli errori a volte sono anche gli errori sono errori e quindi a volte ci sono anche in direzioni chiedo scusa vorrei finire di loro ci sono anche in direzioni opposte non è mica detto che l'errore sia sia sempre nell'aver classificato un edificio uno invece che due qualche volta magari c'era qualche errore nel passato cioè magari c'era qualche edificio che meritava di essere classificato uno che invece è stato classificato diversamente gli errori gli errori per loro natura se non sarebbero errori se non sarebbero scelte dolose gli errori per loro natura ci sono e ci sono tutte in tutte le direzioni e ci sono tantissime osservazioni sulle classificazioni e noi le vedremo qui in commissione ci mancherebbe è una delle cose che la commissione dovrà dovrà valutare permettetemi è anche un lavoro molto tecnico io ve lo dico con molta sincerità io credo che la politica di fronte alle situazioni diciamo borderline che l'ufficio stesso riconosce essere discutibili debba esercitare un ruolo e magari alberto può anche essere un ruolo che orientano diciamo la futura correzione degli errori nel senso che su se succede situazioni borderline a un certo punto si prende una linea è giusto che poi quella linea no si manifesti con continuità ci sono situazioni nelle quali l'ufficio dice no signori questo qui va classificato così perché è una valutazione tecnica quello che viene fatta e se permettete credo che noi in quel caso si debba fare un passo indietro perché non è non è il ruolo della politica quello di decidere a prescindere diciamo no dalle categorie di riferimento come si classificano gli edifici quindi bisogna anche avere questa 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 accortezza allora io non la vorrei esasperare questa cosa perché secondo me un po di casi ci sono ma non sono un numero diciamo esorbitante io vorrei ricordarvi ma lo dico però l'istante elettuale che la vecchia amministrazione l'amministrazione verdola fece se lo ricorderà manola bonari una variante solo su questa cosa qui è fece una variante soltanto sugli errori di classificazione degli edifici perché anche in quel caso si veniva da regolamento urbanistico e c'era come dire una normale situazione di ma non è che mi arrivò io io c'era un consiglio comunale ma non è che si modificò cento classificazioni di cento edifici perché non è che gli errori erano cento erano molti meno e gli errori tant'è che mi ricordo un epico consiglio comunale in cui respingevamo l'ottanta per cento delle osservazioni perché non c'erano le condizioni per accoglierlo perché poi dopo ci vuole un'istruttoria tecnica per accogliere un'osservazione allora la cosa che voglio dire è questa è vero è vero l'ho notato anch'io ci sono delle situazioni in cui sono stati classificati edifici uno e prima erano classificati due faccio per dire o qualche caso forse anche tre se sono stati fatti degli errori abbiamo gli strumenti per correggerli ci siamo dotati di uno strumento snello per correggerli si farà un bell'avviso pubblico si dirà entro x segnalateci gli errori e le correggiamo ma se non sono errori non si correggono perché se l'errore c'era prima e invece ora è stata fatta una cosa giusta e si farà la cosa che deve essere fatta giusta perché siccome noi dobbiamo trattare tutti nello stesso modo non è che se un edificio era tre ed era un errore che fosse tre va bene allora resta tre oggi perché l'errore deve andare avanti perché noi abbiamo trattato tutti nello stesso modo quindi questa cosa ha una sua dimensione per l'amor di dio non è che non dico che non ce l'abbia a non vorrei esasperarla perché a me sembra che stia nella fisiologia delle cose b quando ci sono errori abbiamo tutti gli strumenti per correggerli ma non sono sempre errori però non sono sempre errori quindi lavoriamo come dire con serenità non c'è nessuna questione perché vedrete quando andremo a discutere le osservazioni cartografiche su questo tema della classificazione vedrete che casi borderline che si possono discutere ora che sono tantissimi ce ne sono alcuni c'è una falsa grigia che è discutibile ed è giusto anche fare qui una discussione anche per il futuro no ci mancherebbe ma altri casi invece sono sono inequivocabili cioè in alcuni casi c'era un errore è stato corretto in altri casi non c'è l'errore e quindi al cittadino gli viene detto gli viene detto di no francamente io non ho notato a livello di osservazioni o a livello anche di segnalazioni che mi sono giunte dall'esterno una marea di queste situazioni è chiaro siamo un comune di 30 mila abitanti e con un patrimonio edilizio insomma molto consistente è chiaro che qualche decina di casi ci potrà anche essere no di di osservazioni e magari qualcosa anche di discutibile ci mancherà bene siamo un comune di 30 mila abitanti però io non vedo questa questa situazione poi ripeto quando arriviamo a quel punto le guarderemo le osservazioni cartografiche ora era solo per dire che abbiamo introdotto una norma che aiuta la correzione degli errori non è che la rende più difficile la rende più facile quindi ora si sta discutendo si sta discutendo di quello io credo che sia positivo no che ci diamo uno strumento per correggere più semplicemente gli errori è il massimo che possiamo fare poi fabrizio cinquini ci ha detto che ovviamente gli errori deve trattarsi ma questo va da sé perché se non sono errori e non si possono non si possono correggere va bene simone l'importante che ci sia la volontà ecco come dicevi te di di risolvere appunto delle situazioni che appunto siano errori diamine non si chiede mica non si chiede mica la luna ma secondo me qualcosa salterà fuori appunto che insomma da rivedere e da correggere insomma e poi andando avanti con la commissione si vedranno caso per caso insomma questo però come come dice alberto sicuramente qualcosa ci sarà da rivedere salterà fuori se c'è questa possibilità snella come dici te e se c'è soprattutto la volontà di farlo è già una cosa positiva la classificazione è saltata non ti si sente non si sente niente dicevo è saltata una classificazione per le scelte che classificazioni dei fabbricati sono una in meno è chiaro che sono state riviste tutte qualche fabbricato che era considerato da r2 è diventato r3 o viceversa sono stati rivisti tutti i fabbricati no che siamo partiti dalla classificazione che c'era sul vecchio r1 perché se guardate le r1 di prima c'era r1 r2 r3 ora sul pio una di queste classifiche non c'è più qualcuno è andata a finire nelle r1 e qualcuno è andata a finire le r2 però con valutazioni tecniche no che li abbiamo guardati è chiaro che le osservazioni che sono state fatte come diceva che assessore cinque l'abbiamo viste tutte una per una e quelle si possono rivedere come diceva che si muove se se il criterio è quello però non è un criterio prima r1 deve restare per forza r1 ecco o r2 deve essere r2 l'r2 non c'è più perché c'è r3 prima è chiaro che la classificazione è diversa sì però mi posso trovare dei fabbricati ingessati perché mi sono diventati di pregio architettonico ammesso con ci abbiano il capitelli 18 cioè me le posso trovare ingessati così dei fabbricati normali che si possono recuperare specialmente degli annessi agricoli e che si possono recuperare benissimo anche per prima casa capito la mia considerazione che ti volevo dire e capire volevo dire da vedere capito magari caso per caso lo vedremo cioè però me le poi mette come pregio architettonico da un toccarli più e d'angessarmi lì e che sono normalissimi fabbricati magari mi dici i risistemi in questa maniera mi mantieni una mandolata mi mantieni cioè mi puoi dire che è un pregio architettonico classificazione i fabbricati non sono stati classificati né uno né due quello che te definisci normalissimi fabbricati non hanno valore e non è stato riconosciuto vorrei dire che ci sono dei manufatti agricoli che hanno un notevole valore sotto il profilo di testimonianza storica un edificio non deve avere capitelli per avere un valore architettonico questo è importante prendo la parola un momento per semplicemente per dire che nell'organizzazione delle attività delle attività della commissione avremo un'occasione specifica per questo che ci consente di entrare nel merito io non la voglio superare in questi termini ora è tralasciandolo perché sono convinto anch'io che sia un tema estremamente importante inevitabile anche perché come dicevano dall'ufficio come c'è anche l'assessore l'operazione che si è fatta attraverso il piano cioè quella della semplicazione normativa anche in termini di categorie di classificazione gioco forza ha portato a fare una ulteriore valutazione diversa dalle precedenti da capire se questi criteri intendiamo riconoscerli o meno in questa fase sulle osservazioni presentate dai cittadini chiaro che questa norma di cui stavamo parlando che è l'articolo 4 ci dice che lo strumento con cui si può tornare sopra quella classificazione attraverso il riconoscimento di errori o di valutazioni che abbiamo capito e lo capiremo alla fine in questo percorso quali potrebbero essere quali possono essere lo diamo anche senza bisogno di fare una variante e segnala a tutti tra l'altro che una delle ultime cose che abbiamo fatto prima di approvare il piano strutturale e di cominciare il percorso del piano operativo fu proprio una variante in questo senso se vi ricordate bene c'erano una serie di osservazioni che vennero prodotte in fase tra l'adozione e l'approvazione della variante che avevano contenuto la classificazione di fabbricati quindi non è un tema che si può esaurire così in prima serie di commissioni ci torneremo sopra sicuramente e segnalo che effettivamente questo è un argomento che ha generato anche alla fine del percorso di adozione un dibattito che ovviamente dovremmo sviluppare io direi a questo punto però di introdurre le altre modifiche che ci sono state perché questa ripeto sarà oggetto di uno specifico profondamente sono andata fuori tema ragione andiamo avanti questo anno più avanti no non si è andata fuori tema perché la norma parla esattamente degli strumenti che si usano per correggere gli errori quindi non si è andata fuori tema diciamo che poi nel merito bisognerà vedere appunto le osservazioni sugli edifici perché ci sono situazioni borderline ed è giusto che la commissione prenda un orientamento allora è la seconda modifica significativa che vi segnalo è questo appunto dell'articolo 5,3 che sostanzialmente dice questo è l'articolo che in questa parte fa riferimento alla resede che è l'ambito di normale intervento no se uno vuole intervenire su un edificio lo fa nell'ambito della resede dell'edificio qui si scrive che se ci sono opportunità di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie di recupero paesaggistico e ambientale di miglioramento delle condizioni di accessibilità e mobilità il consiglio comunale può concedere sostanzialmente nell'ambito di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione dell'edificio quindi sostituzione dirizzi e ristrutturazione urbanistica il consiglio comunale può attraverso un piano unitario convenzionato concedere diciamo la possibilità al cittadino di muoversi al di fuori dell'ambito della resede quindi la regola è che gli interventi si fanno dentro la resede ma se c'è un interesse pubblico ad uno spostamento dell'edificio laddove lo spostamento sia ammissibile dalle norme perché magari la sostituzione edilizia e la ristrutturazione urbanistica sono sono concesse allora si può anche spostare spostare l'edificio quindi qui si è data diciamo un'opportunità in più di intervento sull'esistente oltre i limiti della resede in presenza di un forte interesse pubblico ambientale funzionale legato per esempio al fatto che magari un edificio che è in una situazione di pericolosità idraulico geomorfologica lo sposti di fronte a un interesse pubblico così importante sotto il controllo del consiglio comunale si può anche andare oltre diciamo la resede di riferimento dell'edificio penso che questa sia una norma insomma molto positiva dal punto di vista delle possibilità di recupero sull'esistente poi un'altra modifica significativa è nell'articolo 10 significativa ma peraltro dovuta nel senso che faccio riferimento a un particolare commi 7 e 8 lo dico per fabrizio che scorre che scorre lo schermo nel senso che qui noi abbiamo precisato che aspettate perché non mi torna rispetto a quel che fa vedere fabrizio c'è al 10 fabrizio va bene comma 7 e 8 si è questo si si va bene scusa allora sostanzialmente qui noi abbiamo precisato che tutto il mondo degli interventi chiamiamoli di carattere pertinenziare anche se poi il termine non è adeguatissimo ma per capirsi tutto il mondo degli interventi di carattere di pertinenziare che oggi sono disciplinati da regolamento edilizio e che sono ulteriori alle facoltà edificatorie ammesse da regolamento urbanistico continueranno a essere tali quindi ci sarà tutta una serie di fatti specie le cantine i vani semi interrati la piscina l'impianto sportivo diciamo a servizio della casa garage garage tutto questo mondo che oggi è disciplinato nel regolamento edilizio ed è diciamo al di fuori ulteriore rispetto alle possibilità previste da regolamento urbanistico continuerà a essere disciplinato in questo modo questo ha riallineato diciamo la norma adottata con con la con l'attuale regolamento urbanistico crea un'assoluta simmetria che tra l'altro rende anche più semplice insomma la gestione delle delle pratiche edilizie ed è anche corretta insomma rispetto all'impostazione che si è data del piano in questo contesto c'è anche la conferma di quella delibera la numero 8 del 2016 che approvamo in consiglio comunale sulle 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 verande delle attività economiche come bar pizzerie che ovviamente devono avere caratteristiche di deor quindi leggere distinguibili dall'edificio principale anche quel mondo lì resta diciamo al di fuori delle facoltà edificatorie previste da dal pio quindi è il mondo diciamo così degli interventi pertinenziali o minori se si vuole che è giusto che sia disciplinata a livello di di regolamento edilizio quindi qui è importante ma non è diciamo una novità ecco è una novità rispetto all'adozione perché questa parte in sede di adozione noi non l'avevamo precisata bene adesso invece la precisiamo poi un'altra novità significativa è all'articolo qui aspetta su questa forse l'altra novità che è importante tecnicamente è che abbiamo chiarito perché forse non era molto chiaro che tutto quelle che sono le innovazioni necessarie all'adeguamento antisismico e tutto il tema delle cantine eccetera è un intervento sempre ammesso dal piano operativo indipendentemente diciamo dalla classificazione di zona no cioè quindi è ritenuto come dire uno un intervento sempre ammissibile questa è la quale che in questo abbiamo anche chiarito che negli interventi di sottrazione edilizia conservativa è ammesso come dice la legge ovviamente tutto quello che recupero dei sottotetti secondo quello che era previsto dall'ex legge 3 no in modo tale anche qui da rialinneare i nostri nostri interventi con quelle ancora più innovate della legge regionale sì per intenderci le cantine scantinati da ricavarsi esclusivamente entro il sedime ovvero il perimetro dell'impronta intera delle strutture portanti sono vivi comprese i garage e portici cioè io posso andare sotto il garage sotto il portico con la cantina sotto il portico dipende dall'edificio in quanto tale qui si parla del sedime dell'edificio quindi se il portico non ha consistenza volumetrica direi di no se il portico ha consistenza volumetrica direi di sì qui va visto caso per caso sulla base del 39 r di che cosa definisce il 39 r come edificio fabrizio questa cosa consente di dire una cosa molto importante alberto ora è molto tecnica anzi poi fabrizio come già sta facendo integra opportunamente noi una volta ci muovevamo con una certa libertà no dal punto di vista delle dei concetti che usavamo ora non più ora bisogna diciamo stare dietro alle definizioni del 39 r della norma regionale per cui la risposta alla tua domanda sta nel verificare che cos'è che fa sagoma e quindi anche sedime o sedime nel 39 r ok e allora vediamo ovvero il perimetro dell'impronta intera delle strutture portanti se ci dobbiamo rifare al 39 leviamo quello che è dentro le parentesi ovvero il perimetro dell'impronta terra delle strutture portanti questo si può essere un accorgimento giusto cioè qui giustamente alberto dice quello che è il sedime lo è e c'è 39 insomma simone che ora bisogna però fare un chiarimento con con tutti i commissari di metodo di lavoro no perché in modo tale che poi queste proposte anche importanti utili vanno un po ordinate in maniera diversa rispetto al passato vi spiego meglio il responsabile che darà il parere di congruità tecnica sapete non è più roberto lucchesi ma è il segretario comunale no quindi mentre prima c'era un'interazione diretta fra commissione e dirigente no per cui se la commissione faceva una proposta di modifica il dirigente rappresenta e commissione e il dirigente la riteneva congrua poteva dare una parere di congruità immediato espresso usiamo questo termine per capirci e quindi come dire io un automatico faceva la modifica qui bisognerà trovare un modo con cui tutte queste proposte che magari tecnicamente io stesso roberto eccetera riteniamo interessanti quindi ma apprezzabili per capirci però andrebbero bisogna trovare un modo con cui plantonella le verbalizza le confrontiamo con il dirigente e poi magari una seduta successiva ne riscontriamo gli esiti cioè non lo possiamo fare in automatico per ovvi motivi perché diciamo c'è c'è bisogno di un tempo diciamo di restituzione della problematica di fronte al dirigente che poi filmerà l'atto ecco non so se io se mi sono spiegato correttamente poi se mai simone chiariscito meglio anche te no fra l'altro c'è un aspetto diciamo ulteriore che prescinde dal fatto che michele parenti sia presente o non presente cioè michele parenti non è diciamo così non ha la formazione di un architetto no per essere chiari era una formazione giuridica per cui e diciamo e si raffronta molto correttamente con con manola bonari con con l'architetto cinquini quindi anche fosse presente però lo dico per chiarire non non la darebbe non lo darebbe un parere all'impronta quindi si va bene quello che diceva l'architetto cinquini cioè ci appuntiamo no le richieste di modifica che via via vengono fatte dalla commissione il tempo diciamo di fargliere di fargliere vedere e poi sono convinto che nella stragrande maggioranza dei casi non ci saranno non ci saranno per esempio questa proposta mi sembra ragionevole anzi forse potrebbe valere la pena anche di sostituire sedimenti direttamente con sagoma in modo tale da essere più sicuri di essere allineati al 39 e quindi magari a cantonella se a parte che guarda è compazzo ora lo vedo in questo momento stavo ascoltando e la commissione quindi sono presente ai lavori stavo ascoltando quella che era la relazione l'illustrazione da parte dell'assessore dei tecnici però già aveva avuto modo di dire sia all'uno sia all'altro che questa era la mia necessità cioè a fronte di proposte di modifica integrazione quant'altro io chiaramente ho necessità di confrontarmi con con i tecnici che hanno predisposto la stesura delle delle osservazioni e con la posizione organizzativa dell'ufficio che è l'architetto mi sembra inevitabile procedere in questa maniera ok quindi antonella magari segnati articolo 10 comma 8 verificare di eliminare la parentesi e sostituire sedime con sagoma avanti ok un'altra modifica sempre significativa dal punto di vista dei contenuti è nell'articolo 15 tra l'altro questa è stata una richiesta che è venuta mi pare dall'ordine professionale degli architetti ed è una cosa alla quale noi non avevamo pensato ed è un tema diciamo che delicato ma affrontato in modo diciamo attento può essere un'opportunità si tratta dell'introduzione del concetto di uso temporaneo cioè l'idea che un immobile che ha una certa destinazione d'uso possa laddove noi la norma l'abbiamo scritta così laddove ci sia un rilevante interesse pubblico l'espressione che abbiamo usato è esattamente questa un rilevante interesse pubblico possa per un certo periodo di tempo dietro convenzione con il comune e sulla base di una votazione del consiglio comunale che valuta la rilevanza di questo interesse pubblico essere utilizzato con una destinazione d'uso diversa vi faccio un esempio facile cene nel senso che non sarebbe problemato noi abbiamo per esempio delle situazioni nelle quali per scelta abbiamo diciamo fatto delle norme più restrittive dal punto di vista del cambio di destinazione d'uso no mi viene in mente il tema forse dove questo aspetto si vede di più che è il sono i centri commerciali naturali no noi abbiamo detto nei centri commerciali naturali bisogna difendere la destinazione d'uso al dettaglio no del commercio al dettaglio perché non vanno dispersi come patrimonio collettivo ma anzi casomai aiutati aiutati a crescere chiaramente noi siamo in una fase storica nella quale per esempio ci possono essere delle situazioni particolari ecco voi pensate non lo so a un fondo sfitto in via di mezzo dove a un certo punto arriva che ne so una società che gestisce un servizio pubblico locale gaia piuttosto che è su piuttosto che e dice no vorrei mettere quel fondo sfitto che ne so uno sportello per i cittadini a rigore a rigore non si potrebbe fare nel senso che se se una una destinazione d'uso e commerciale può per esempio ospitare delle funzioni pubbliche che stanno nel direzionale direzionale e di servizio ecco con questa norma per esempio questa cosa questa cosa è possibile ho fatto un esempio diciamo di un di un uso temporaneo che probabilmente non creerebbe problemi a nessuno ci possono essere naturalmente situazioni dove la scelta è un pochino più discutibile però ci siamo ecco sentiti di questa è proprio una scelta politica guardate quindi va discussa come tale ci siamo proprio sentiti di di introdurre sotto il controllo del consiglio comunale un elemento di flessibilità perché magari ci possono essere per dei periodi di tempo degli usi di un determinato bene che possono essere valutati valutati positivamente in termini appunto di interessi di interessi generali e quindi vedete la norma è molto specifica rilevante interesse pubblico convenzione del consiglio votazione del consiglio posso dire una cosa sì ma qui ad esempio potrebbe essere esserci anche un cambio in funzione delle esigenze applicative di fondi che possono essere affittati a chi ne ha bisogno a mio giudizio nell'ambito dell'edilizia privata in quanto tale riccardo no dal punto di vista invece di un uso che fosse diciamo così con un ruolo con un ruolo forte no del del sociale del settore sociale del comune perché no però con un uso perché il mondo il mondo del diciamo così dell'edilizia pubblica o dell'edilizia convenzionata che sottosta certe regole è un mondo dove gli interessi pubblici sono rilevanti e quindi il consiglio comunale può anche valutare l'esistenza di un rilevante interesse pubblico eh ma questo però non vale secondo me nel mondo dell'edilizia privata pure semplice nel senso che lì eh non l'uso residenziale nell'edilizia privata è un uso che normalmente no risponda a un bisogno sicuramente ma non necessariamente a un bisogno sociale tale da essere di rilevante interesse pubblico quindi eh con un forte ruolo del sociale potrebbe anche essere che uno dica per un periodo certi 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 fondi li usano per per affrontare per esempio l'emergenza abitativa però emergenza abitativa ovviamente no presuppone una serie di verifiche no ci sono graduatorie ci sono fasce di reddito ci sono insomma tutto il sistema delle regole eh che conosciamo eh posso fare un esempio magari che collima in questi termini no mettete tutto quella che l'edilizia eserale pubblica e magari andrebbe completamente rinnovata e magari ora con il record di found arriveranno finanziamenti anche ingenti no per l'efficientamento energetico addirittura per la sostituzione no quindi le case popolari che possono essere abbattute ricostruite rendendole più efficienti e quindi lì magari in questo momento ci sono assegnatari che sarebbero privi nel momento in cui viene abbattuto l'edificio nel tempo che si ricostruisce privi di alloggio no allora è chiaro che questo è un intervento completamente pubblico che va a rinnovare l'offerta e la qualità del tessuto edilizio eh come dire ci intravedo i rilevanti interessi pubblici che dice Simone cioè temporaneamente ho bisogno di parcheggiare gli assegnatari delle case popolari in un immobile e se ce l'ho disponibile e peraltro è anche mio del comune oppure c'è un privato perché ho fatto un bando pubblico e me l'ha offerta al miglior offerente in termini economici allora temporaneamente lo posso utilizzare per questi scopi perché sto facendo un intervento che è funzionale a questo scopo deve essere già funzionale però intervenite pure eh ora ora c'erano sovrapposti riccardo e alberto dite pure allora l'ho chiuso perché parlava lui volevo dire sì ho capito cinquini ma è discrezionale comunque no cambia maggioranza e uno può vederlo in un'altra maniera l'interesse pubblico anche con l'esigenza abitativa quindi fare questo cambio d'uso temporaneo io lo vedo anche giusto non lo vedrà giusto vedo anche giusto e riccardo se non so alberto ho visto che volevi intervenire ora Jacopo in questo momento non non interviene pure eh opposto grazie allora volevo dire questo riccardo sì certo c'è un margine di discrezionalità questa è una norma dove conta molto è la gestione quindi c'è un margine di discrezionalità però è un margine di discrezionalità che comunque ha un confine nel senso che comunque un'istruttoria chiamiamola tecnica no dove un ragionamento oggettivo sull'interesse pubblico c'è ci vuole in ogni caso no nel momento in cui una delibera approda il consiglio comunale è evidente che no un'istruttoria tecnica che ti lascia la discrezionalità di decidere ma che ti dice ok ci sei dentro la norma dentro la norma ci vuole sicuramente i fenomeni di di edilizia residenziale sociale a certe condizioni ci possono ci possono stare mentre vedo difficile onestamente una destinazione d'uso diciamo residenziale pure e semplice legata che ne so a questioni più generiche no nel senso che certo la casa farebbe comoda a tutti ma ci sono altri strumenti no per per soddisfare diciamo un bisogno normale ecco ci vedo molto lo spazio del sociale ecco del sociale si no soltanto una mozione d'ordine scusate perché siccome ho un problema la scheda video del computer e allora sono dal cellulare vedo tutto piccino e non capisco se qualcuno alza la mano anche con la chat ho un po' di difficoltà per l'interfaccia del del dello schermo sicché se me lo segnalate anche accendendo il microfono se volete intervenire così regola un po meglio al lavoro perché in questo momento sto cercando di risolvere questo problema con il monitor del computer prego continuiamo pure l'altra diciamo modifica significativa e all'articolo 16 ora qui va fatto un ragionamento più generale che è questo anche molto tecnico però importante che diciamo la sostanza sia sia ben compresa allora il regolamento regionale di cui parlavamo anche prima ci consegna delle definizioni di superficie che non sono tutte uguali ci sono varie definizioni di superficie che corrispondono a cose in parte diverse noi diciamo in serie di adozione questo aspetto lo avevamo valutato ma non adeguatamente c'è poco da da fare nel senso che in serie di adozione ci era sembrato che la definizione diciamo che calzasse a pennello per i vari tipi di esigenze fosse quella di superficie calpestabile che è una definizione dove rientra ora io semplifico molto e quindi l'approssimazione poi può anche diciamo così essere eccessiva ma per farmi capire nel concetto di superficie calpestabile ci rientra tutto tutto ciò che è superficie dalla camera da letto al balcone dal corridoio al vano scale tutto sta dentro la definizione di superficie calpestabile in realtà alla luce delle osservazioni approfondendo ci siamo accorti che quella definizione quella di superficie calpestabile non è la più adeguata perché perché diciamo è non ci aiuta a misurare l'abitabilità di un'unità immobiliare quando si tratta di valutare quella rispetto ad una serie di scelte e era troppo diciamo così estensiva quando si tratta di disciplinare gli ampliamenti nel senso che quando noi abbiamo scritto in altre parti del piano che una determinata diciamo così unità immobiliare può fare certi ampliamenti se noi quegli ampliamenti li misuriamo in superficie calpestabile anche oggetti come un terrazzo ti ci cascano dentro e rendono insomma la vita più complicata ai cittadini nel senso che se io voglio fare una stanza con un terrazzo un ampliamento con una stanza in più un terrazzo se anche il terrazzo mi casca dentro il concetto dell'ampliamento rischio magari di non poter insomma avere da quell'ampliamento l'utilità che serve allora abbiamo approfondito la cosa e è venuto fuori questo sostanzialmente che la definizione più corretta da utilizzare per misurare l'abitabilità di un bene quanto un bene abitabile dal punto di vista della capacità anche di ospitare un certo numero di persone è il concetto di superficie utile perché la superficie utile è quella che misura la grandezza dei vani sostanzialmente principali dei vani che caratterizzano la casa cucina la camera da letto le camere da letto invece per gli ampliamenti e più in generale per tutto quello che significa aggiungere volume ci siamo accorti che è la stessa norma regionale che ci indica qual è la definizione più corretta che è quella di superficie edificabile nella superficie edificabile ci sono tutti i vani dell'abitazione principale più alcuni vani accessori che sono importanti perché questa è la definizione giusta perché quella di superficie calpestabile aveva il problema che dicevo prima cioè c'entra dentro tutto a un cittadino che faccia un terrazzo si brucia già la possibilità magari di ampliamento invece la superficie utile che era il parametro che usavamo nell'attuale regolamento urbanistico per misurare l'ampliamento c'è un difetto che se un cittadino chiede di ampliare la propria casa per fare un vano accessorio e non sai se si puoi dirgli sì o no perché perché la superficie utile misura soltanto la grandezza dei vani principali quindi se un cittadino chiede di fare un vano accessorio perché magari ha un'esigenza che ne so di avere un ripostiglio più grande piuttosto che un vano di rimessaggio o no di una serie di beni che non sa dover mettere se te hai una facoltà edificatoria che è misurata in superficie utile non hai lo strumento per dirgli quanto può fare e se lo può fare c'è capitato è spesso ormai anch'io da sessore insomma sono capitati cittadini che avevano questo questo problema allora voi vedrete che nell'articolo 16 che è quello sul sul sulle dimensioni minime delle unità abitative noi abbiamo usato la definizione di superficie utile che quindi da più possibilità a diciamo così di misurare no l'abitabilità di un bene rispetto a al fatto che non ci vuole una dimensione minima per avere un certo un certo uso particolare quello diciamo disciplinato qui è quello è quello residenziale mentre vedrete in altre parti del 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 piano che abbiamo utilizzato la definizione di superficie edificabile per diciamo disciplinare gli ampliamenti dopo di che cosa abbiamo fatto siccome nella superficie edificabile a differenza della superficie utile ci va anche lo spessore delle murature noi per riparametrare diciamo gli ampliamenti in superficie edificabile con quelli che oggi sono misurati in superficie utile gli abbiamo aumentati tutti un po considerando la la dimensione che normalmente hanno le murature quindi ora poi via via magari scorrendo le norme lo possiamo vedere ma il concetto è dovevamo individuare meglio ce l'hanno segnalato con le osservazioni giustamente gli operatori qual è il concetto di superficie che vogliamo usare quello più corretto sul sul sulla definizione dell'unità minima abitativa è quello di superficie utile perché la superficie utile ti dà la misura di quanto un bene abitabile mentre dal punto di vista delle facoltà edificatorie la definizione più corretta è quella di superficie edificabile perché ci sono dentro tutti i vani principali di una casa più i vani accessori più importanti e quindi esaurisce in sé tutte le possibilità e tutte le necessità che un cittadino può avere non so se mi sono spiegato bene perché è una materia molto complicata però è molto importante che diciamo questa cosa sia compresa perché ha una scelta insomma che ha una sua rilevanza non so se fabrizio te vuoi integrare qualcosa o dirlo anche semplicemente meglio di me perché questo è un aspetto molto ma chiarito solo questo aspetto perché un aspetto importante no superficie utile superficie edificata e o edificabile quando si tratta di iscritti scrivere norme che riguardano la realizzazione degli interventi e quindi le addizioni volumetriche la nuova edificazione eccetera viene utilizzata la superficie edificata a differenza superficie calpe stabile questo perché ce lo dice peraltro il regolamento 39 r quindi avremmo anche diciamo un obbligo poi di verifica nei confronti diciamo del monitoraggio che fa la regione sui piani in funzione di questo però siccome prima avevamo utilizzato la calpe stabile nel caso dell'addizione troverete quindi sempre che le superfici rispetto all'adozione sono più alte le dobbiamo aumentare perché la superficie edificata rispetto a quella calpe stabile è leggermente più restrittiva della della calpe stabile quindi siccome volevamo dare le stesse opportunità che abbiamo dato l'adozione allora tutte le addizioni troverete che hanno dai 3 4 5 metri quadrati in aumento perché appunto siamo passati dalla superficie calpe stabile a superficie edificata quando invece si tratta della dimensione dell'unità immobiliare cioè la dimensione che si attribuisce agli alloggi residenziali in caso di frazionamento di montonamento in situazioni d'uso utilizzando la superficie utile e allora vedrete che è leggermente diminuita rispetto alla precedente proprio per il motivo opposto perché la superficie utile è un contenitore più ristretto rispetto appunto alla superficie calpe stabile in questa maniera abbiamo sostanzialmente ottemperato a due temi uno abbiamo risposto all'esigenza di collimazione con regolamento regionale segnalato da tutti gli ordini professorali geometri architetti ingegneri eccetera due reso più conforme tutta la parte delle trasformazioni a 39 r tre abbiamo però comunque garantito che rimodulando le dimensioni da 45 a 40 oppure da eccetera le quantità che effettivamente potevano essere concesse in fase di adozione rimangono sostanzialmente anche in fase di approvazione per essere ancora più chiari facendo un esempio noi abbiamo fatto in modo che i 40 metri quadrati di superficie utile siano ancora tali esatto di misura si misura l'ampliamento in superficie edificabile ma con lo spessore delle murature si torna ai 40 metri quadrati di superficie utile quelli che sono per esempio già ora nel regolamento urbanistico nel territorio nelle aree diciamo del territorio urbanizzato e dell'edificato recente oppure i 30 metri quadrati che noi diamo negli edifici classificati 2 abbiamo fatto in modo che poche siano un po di più di 30 in modo che si possa fare 30 metri quadrati di superficie utile cioè abbiamo messo in condizione sostanzialmente guardo alberto un particolare i professionisti anche per l'edificabile scuse 30 utile o edificabile di 30 facciamo un esempio fabrizio mi ci vai a una a un ampliamento di quelli con 45 quanti abbiamo messo vi faccio vedere così almeno ci capiamo meglio o o questo per esempio dell'articolo 22 sulle sulle aree siamo già nel territorio urbanizzato nell'edificato recente e siamo nel la prima categoria del b per capirsi vedete che c'è scritto che si può fare un ampliamento in superficie edificabile di 45 metri quadrati va bene se un professionista fa un ampliamento di 45 metri quadrati di superficie edificabile e vuole fare una stanza in più riccardo questo ampliamento corrisponde grosso modo a 40 metri quadrati di superficie utile cioè di superficie effettiva al netto delle delle murature che era diciamo il risultato che fin dall'inizio volevamo volevamo ottenere questo è il lavoro che è stato fatto ok abbiamo cambiato definizione perché era doveroso farlo però abbiamo cercato di ritoccare le quantità in modo che il cambiamento di definizione non creasse no differenze sostanziali rispetto alla scelta politica che avevamo fatto sin dall'inizio che era per esempio nel caso di specie confermare i 40 metri quadrati nel territorio urbanizzato questo è un esempio ok quindi anzi questo è un aspetto che potrete verificare no cioè l'obiettivo è avere il parametro corretto ma non togliere niente diciamo in termini di opportunità a quello che si voleva dare sin dall'inizio spesso anche in linea con regolamento urbanistico attuale quindi qui il senso è i 45 metri quadrati di superficie edificabile sono i vecchi 40 metri quadrati di superficie utile in modo tale che i professionisti hanno una continuità da questo punto di vista anche per esempio nelle pratiche di sanatoria perché poi la cosa diventava particolarmente problematica nelle pratiche di sanatoria e questo ovviamente vale diciamo lo vedrete via via nel tutto in tutto il piano non so ora se è più se è più chiaro e riccardo forse che abbiamo ridotto anche il taglio degli alloggi l'avevi detto se lo ha detto fabrizio cioè ci come la superficie utile misura soltanto i vani abitabili che cosa succedeva qui succedeva che se uno manteneva i numeri di prima passando alla superficie utile la norma diventava più più restrittiva allora noi abbiamo cercato di riallineare anche da questo punto di vista la norma in modo tale che diciamo l'effetto sia quello che si voleva sin dall'inizio tra l'altro con molta continuità rispetto anche all'attuale assetto di regole vi faccio un esempio poi correggetemi se sbaglio manola gli attuali gli attuali noi abbiamo scritto per esempio che nel territorio recente il taglio minimo dell'alloggio e 50 metri quadrati in superficie utile è già ora così se non vaderà già o già nella variante che avevamo fatta regolamenti edilizio mi pare lì l'avevamo già portata quella quella dimensione insomma non ci sono degli sconvolgimenti sostanziali però era importante segnalarvi che vedete diciamo dei parametri diversi perché il parametro corretto da utilizzare è in questo caso la superficie utile quando misuri diciamo la grandezza di un alloggio ai fini della possibilità di abitarvi mentre sulle facoltà edificatorie la addirittura l'imposto dalla norma sostanzialmente il parametro giusto è superficie edificata o edificata ma scusa quando si parla però di in caso di ristrutturazione urbanistica o incremento volumetrico lì abbiamo alzato allora la misura minima perché l'abbiamo portato 60 metri di superficie utile che è maggiore di 60 metri di superficie calpe stabile quindi danno ma lì però l'errore c'era prima il cinema era per capire spiego mi spiego noi fin dall'inizio volevamo dire no se fai un incremento volumetrico il tuo alloggio deve essere almeno di 60 metri quadrati no soprattutto perché dobbiamo avere una norma che diciamo trova un equilibrio no fra le esigenze dei cittadini e il carico urbanistico no che era successo che era successo che avendo noi messo superficie calpe stabile è proprio un errore riccardo io non ho non faccio fatica a riconoscerlo ok avendo noi messo super no ma ho capito te dici vuoi capire meglio no ci mancherebbe avendo noi messo superficie calpe stabile veniva fuori che per misurare l'abitabilità di un bene andavi a vedere anche quanto era grande il terrazzo con delle cose assurde nel senso che se una casa aveva il terrazzo enorme e una stanzina faccio per dire di 12 metri quadrati è capace che poteva diventare casa quindi lì era proprio come ti posso dire un errore ok c'era ci poteva essere anche il problema inverso io voglio fare un ampliamento e il terrazzo mi mangia un pezzo dell'ampliamento cioè sull'abitabilità c'era il problema che mettevi nella valutazione di abitabilità delle cose che non ti danno il grado di abitabilità no un terrazzo da un comfort ma non ti dice quante persone ci possono stare in una casa no quindi era proprio un errore perché avremmo avuto situazioni in cui con un piccolo con una piccolissima casa con dei terrazzi grandi potevi di fare potevi diventa casa no o poteva o poteva essere abitato quel bene e invece magari un unità immobiliare più grande ma senza terrazzo non poteva non poteva essere abitato quindi avremmo avuto delle situazioni assurde ok perché perché abbiamo sbagliato nello scrivere calpestabile lì il parametro giusto e la superficie utile cioè quanto è grande la parte abitativa di una casa la parte abitativa è cucina bagno salotto e camere quanto è grande a seconda di quanto è grande no ti dico se puoi o non puoi realizzarci una casa quindi il parametro corretto è quello e 60 metri quadrati non è una novità è una norma che già ora ritroviamo spesso nel regolamento urbanistico ok quindi noi abbiamo qui abbiamo fatto un lavoro di riallineamento semplicemente ai racioni e riccardo è giusto la tua osservazione prima lì in particolare l'errore era era significativo basta una parola a volte in urbanistica e l'errore ti diventa significativo di contro come diceva fabrizio sull'altro fronte usare il parametro della superficie calpestabile ti avrebbe provocato una situazione assurda sugli ampliamenti nel senso un bel terrazzo è giusto che lo faccia il regolamento edilizio dirà no come lo può fare ma non è giusto che le sue facoltà edificatorie sfumino in un terrazzo insomma è sbagliato quindi qui abbiamo dovuto fare un lavoro molto tecnico di riallineamento io ve l'ho segnalato non tanto perché secondo me abbia un aspetto politico sostanziale ma perché è giusto insomma siccome è una delle modifiche tecniche più significative tecnicamente è giusto insomma che che si sia consapevoli di quello che è stato che è stato fatto ma se voi prendete la normativa diciamo così ripulita e la paragonate a quella dell'attuale regolamento urbanistico le differenze non sono enormi sono poche e era la volontà sin dall'inizio di tutti ecco alberto si simone ho fatto avevo casualmente autocad aperto ho fatto 45 metri quadri di superficie edificata perché sulla cedificata se non se non ho un lapsus comprende anche le muri perimetrali per la quota dico 45 metri quadri di ampliamento sulla cedificata sono 37 metri quadri se ragioniamo con una muratura di 30 centimetri ma sono 35 metri quadri come verosimilmente la muratura oggi è che è 35 35 centimetri non viene tenuto conto della quota di perimetro per performare di edifici però alla stregua di questo ci sono tante altre cose che vanno a partecipare alla sottrazione dei 45 metri quadri della superficie edificata mi viene in mente il garage mi viene in mente il vano scale mi viene in mente tutta una serie di situazioni che in realtà prima si prevedeva 40 metri quadri di utile oggi se ragioniamo in termini di utile sono nettamente inferiori quelle sarebbe guardiamo quello che c'è nella superficie edificata a beneficio a beneficio degli altri commissari anche questo è importante secondo me sono setto otto punti sì sì no no alberto allora diciamola la riparametrazione diciamola così della superficie edificata in superficie utile quella la verifichiamo no nel senso che quello è diciamo una verifica quasi matematica quindi tieni presente che negli ampliamenti io l'ho imparato è cioè io puoi dire che io e comparato questa non è materia cioè qui sia che i tecnici a beneficio di tutti se tanto sono dieci punti se leggiamo un secondo ora io dicevo un'altra cosa stavo dicendo che stavo dicendo che riparametrare l'ampliamento diciamo da utile in edificata è un'operazione matematica no come dici te c'è uno più o meno calcola il perimetro dei muri e vede qual è la differenza i muri sono tre non quattro nel senso che quando fai un ampliamento e no un muro un muro ce l'hai già diciamo quindi però questo è un calcolo matematico e mi rimetto che va confrontata anche con la utile perché non è che tutto quello che è calpestabile utile al contrario poi la utile un po di superfici le sottrae non le considera come utili no i disimpegni c'è alcuni alcuni elementi accessori o di natura pertinenziale spesso non fanno utile quindi diciamo come dire è un po un problema caso per caso quindi va fatta una proporzione che stia in piedi peraltro devo dire che questo calcolo l'abbiamo fatto con l'edilizia privata cioè ecco abbiamo cercato anche di coinvolgere dell'ufficio per capire più o meno i casi che classici emblematici e come potesse potessero collimare nulla vieta poi di rifare una simulazione però è chiaro che qui ogni caso porta misure diverse perché io sono mi piacciono gli open space faccio un esempio è già perdo tanta superficie di muratura oppure invece sono uno che gli piace tutti i dedali con tutti i corridoi o le stanze armadi e guadagno utile quindi bisogna stare attenti perché poi appunto siccome la norma c'è la definizione superficie edificata e sono un paio di pagine è uguale a quella utile è chiaro che i dettagli che non è sempre facile per farli tornare per tutti i casi no bisogna trovare un punto d'equilibrio noi pensiamo di averlo trovato poi magari se ci sbagliamo lo rivalutiamo ma ecco peraltro ripeto non è che l'abbiamo fatto abbiamo provato anche a simularlo con gli uffici dell'edilizia privata sì volevo aggiungere una cosa allora il garage no quel problema non esiste perché il garage noi lo discipliniamo nei regolamenti edilizio è pertinenza alberto quindi quello no e magari ci possono essere questo lo capisco alcuni vani diciamo funzionali all'abitazione che che vanno dentro e invece prima non ci andavano riflettiamoci su questo nel senso che se siccome questo come è molto importante anche tecnicamente no avere una normativa allineata al passato da questo punto di vista perché sennò si creano problemi sulle sanatorie quindi è un'esigenza come dire l'esigenza tecnica è così preminente che anche le valutazioni politiche secondo me devono un po' seguirla perché nessuno vuole mettere in difficoltà l'edilizia privata sulle sanatorie magari per due metri quadrati mi spiego quindi facciamo assolutamente una verifica tecnica si può anche decidere secondo me che alcuni aspetti come dire gli escludiamo esplicitamente no cioè proviamo a dire che che stanno sempre nel regolamento edilizio operazione non facile perché più ci si discosta dalle definizioni peggio è però se c'è qualche cosa che vale sempre come posso dire no che è un problema che ci ritroveremo sistematicamente si può provare anche a ragionarci sopra cioè questo lo dico anche a fabrizio no e manola lo sa perché sarebbe diciamo problematico se poi quando si va a fare le sanatorie a verificare la doppia conformità per uno o due metri quadrati o tre metri quadrati c'è un problema di doppia conformità cioè diventa diventa insomma non è opportuno insomma che ci si trovi in situazioni di questo tipo quindi magari ecco ha detto voi anche che insomma te e altri che avete anche esperienza tecnica ragionateci e poi magari su questo si fa una verifica specifica non ci sono problemi insomma non è che non possiamo non usare il parametro ecco il parametro corretto da usare questo qui superficie edificata questo ce lo dice la legge qui poi dopo vediamo di fare delle cose che funzioni non so non è che andiamo avanti con regolamenti l'inizio dicevo ce l'abbiamo fatto quelle verifiche si ritorna a 40 metri di superficie perché tanta roba che il 39 r mette nella superficie digitabile noi la recuperiamo con regolamenti l'inizio sì non so se ci vuole un riferimento lo dico a fabrizio che magari si riflette forse un richiamo non so se qui ci vuole un richiamo nel pio che ci lasci spazio poi nel regolamento edilizio di diciamo di avere qualche accorgimento su quelle superfici fabrizio accessori che magari sono strettamente funzionali capito che sono quelle che magari possono creare il problema semplice ma probabilmente lavorando ci si può ci si può arrivare che è un problema che c'è solo diciamo nella superficie edificabile quando si va a fare il calcolo dell'ampliamento si va avanti e su questo magari poi approfondiamo siete d'accordo si si può procedere allora beh allora altre due modifiche che meritano di essere segnalate nulla di diciamo di particolare ma insomma meritano di essere segnalate una è l'articolo 21 comma 6 dove su osservazione mi pare di un professionista o di più profe forse di più professionisti abbiamo diciamo accolto la possibilità che nella ricostruzione del rudere la norma sul rudere prevede che si possa ricostruire come era in origine la parte oggetto di ricostruzione possa essere anche realizzata con materiali e tecnologie moderne cioè nulla vieta che un bel progetto architettonico possa combinare diciamo così la parte storica di un rudere con una parte diciamo più invece di carattere appunto moderno l'importante è ovviamente che ci sia un presidio che è rappresentato dalla commissione edilizia comunale cioè nel momento in cui uno si discosta dalla ricostruzione diciamo filologica non so se uso l'espressione giusta della tecnica costruttiva vecchia e fa qualcosa di architettonicamente diciamo particolare è giusto che sulla qualità ci sia una verifica attenta non so se mi sono spiegato quindi quando si ricostruisce un rudere si possono usare anche tipologie, materiali che non sono magari uguali a quelli della parte del rudere già esistente ma che la commissione edilizia comunale valuta essere di qualità insomma che ritiene essere diciamo il frutto di un progetto qualitativamente adeguato te Fabrizio correggimi, integra tutte le volte che ritieni questo vale ovviamente nella parte che non c'è più siccome il recupero del rudere consente non solo di recuperare quello che è visibile ma anche quello che ormai è accaduto e che non è più visibile attraverso la documentazione quindi la norma dice proprio questo che finché c'è delle parti visibili una muratura vanno recuperate alla stregua diciamo di intervento di restauro tutto quello che invece non è più visibile ma che può essere ricostruito può essere ricostruito come diceva l'assessore io non essendo un tecnico faccio magari delle domande anche magari sbagliate ma volevo capire cioè se ci fosse una parete alta 3 metri fatta con materiale storico questa va mantenuta anche se magari non c'è su questo non rappresenta i requisiti minimi di sicurezza di stabilità o meno no però quello riccardo c'è sempre una tecnica costruttiva che consente di metterla a norma lasci la pelle lasci l'aspetto che si vede si deve rimanere l'elemento di finitura è chiaro che se poi ma questo però vale in generale te pensa quando fai un intervento di ristrutturazione edilizia per esempio conservativa a determinate condizioni se devi mettere in sicurezza l'edificio internamente alcune opere sono sempre ammissibili fai un telaio interno non visibile ovviamente sei costretto a fare anche degli interventi magari anche più costosi questo deve essere un po' chiaro però che comunque ti consentono di tenere di garantire diciamo l'agibilità in termini proprio di prestazione tecnica dell'edificio questo è evidente possiamo aggiungere fatta salva dietro motivata relazione di un ingegnere strutturista che dichiara che non è possibile mantenere la struttura comunque obbligare alla resa visiva dell'opera eventualmente ricostruita perfettamente fedele a quanto originario perché ci sono delle situazioni dove non è possibile recuperare quello che è preesistente ancorché applicabile perché io condivido tutto perché sono anch'io per il recupero del patrimonio però oggettivamente ci sono delle situazioni dove voglio rimettere tutti i soldi che ti pare ma se non è buono non è buona magari Fabrizio questo ce l'appuntiamo e si ragiona di una precisazione se non c'è già se non c'è già da qualche parte non lo so se stavo andando a Via Reggio lo chiamano rilievo critico a Petrasanta invece dichiarazione asseverata dall'ingegnere strutturista qui bisogna un attimo pensare come scriverlo perché qui bisogna avere però l'idea chiara di cos'è un rudere perché è chiaro che se è un rudere è quasi tutto on terra e se è tutto on terra o si fa una struttura nuova o altrimenti si recupera quella parte lì cioè è chiaro che quello strutturalista ti dirà senz'altro che non ci sta in piedi se no abbiamo sbagliato è un errore materiale non era un rudere se è rudere vuol dire che non ci sta in piedi cioè ce n'è una parte e una parte è crollata quindi si tratta di capire come si interviene su quella parte lì cioè lo strutturalista non serve a nulla è facilissimo di che il rudere casca perché se no non era rudere non ci ho reso l'idea infatti almeno non mi convince la commissione è vincolante in questo caso in uno dei pochi casi che la commissione ha parere vincolante bisogna vedere il tipo di intervento che il professionista abbina a quelle opere che ci sono ma il controsenso se te mi dici che è un rudere e un sta-stun allora perché mi obbligo a tenerlo su e questo è un discorso serio quello che fai te però è qui il ragionamento questo è il ragionamento non è che si può fare si tiene sulla parete no però qui forse confondiamo un po' i termini cioè la legge diciamo un rudere a determinare se noi non introducessimo questa norma non si ricostruisce rimane recuperabile per quello che è no? quindi e non faremo un atto illegittimo o una norma forzatamente come dire che penalizza il privato perché appunto l'immobile non esiste più appunto è allo stato di rudere quindi in realtà questa è una norma virtuosa perché dice no vabbè ma a determinate condizioni non solo io ti faccio ricostruire quello che è visibile e che in qualche maniera sta in piede ma se te mi riesci a dimostrare che avevi molto di più faccio un esempio ora per capire questo è un'opera abbandono potrebbe essere un residuato bellico ci possono essere anche edifici che sono crollati in periodi storici particolari temi documenti che in realtà quell'edificio lì aveva una consistenza perché è una licenza edilizia hai un documento catastale hai un contratto allora lo puoi ricostruire però è chiaro che la finalità della ricostruzione è quello di mantenere la testimonianza storica dell'edificio che si deve ricostruire perché altrimenti non c'è nessun'altra finalità quindi se deve essere così forzata la ricostruzione al punto di dover cancellare erudere per produrre un edificio che è completamente alternativo perdiamo la finalità per cui lo facciamo ricostruire questo deve essere chiaro quindi io un po' lo condivido come dice Roberto siccome se è erudere vuol dire che ci è rimasto quel pochissimo quel pochissimo in qualche maniera deve pur rimanere in piedi perché se non rimane in piedi neanche quel pochissimo perdiamo la finalità della ricostruzione ma io sono d'accordo con te Fabrizio perfettamente d'accordo ma non mi puoi obbligare a tenere e fammelo ricostruire uguale con la tecnologia che abbiamo oggi facciamo di più e meglio di quello che abbiamo prima ma non mi fa mantenere quello che è lì mi obblighi sulla base di documentazione fotografica del stato attuale su una base di documentazione recuperata negli atti quella porzione che è lì oppure la maggior parte se è possibile di recuperarlo di ricostruire sulle condizioni prima ma non mi fa mantenere che quattro salsi marci lì che come ce ne tengo lì insieme se è rudere poi se mi dici me lo fai architettonicamente che la skyline sia quella in termini così a me mi sta benissimo no però scusa Alberto ma non abbiamo scritto quello che dice perché qui c'è scritto non è ammessa la trasformazione delle strutture verticali e delle aberture ancora esistenti questo vuol dire che quello che c'è no non lo puoi trasformare ma non la vieta che tu a fianco tu gli ci possa fare una struttura ad acciaio di cemento armato di quel che ti pare per tenerlo in piedi no quindi è questo il punto cioè in realtà io ti faccio ricostruire anche un manufatto ex novo come dire che tiene purché tu però la parte che è come dire valore testimoniale tu non me la demolisca è proprio qui la questione cioè non è che io ti impedisco di fare una struttura in cemento armato una struttura in acciaio voglia di farla però come dire almeno il muro appunto quello che dicevi te che sono tre sassi proprio quei tre sassi lì mi ce li devi mantenere in qualche maniera e proprio appiccicare proprio perché sono è il motivo per cui ti faccio fare la struttura in cemento armato e la struttura in acciaio perché mi interessano quei tre sassi lì allora la superficie che io vado a sottrarre alla superficie del fabbricato perché dico non è che si parla di fare del betoncino armato perché poi bisogna confrontarci anche con la realtà perché con libri siamo tutti bravi poi su cantieri un'altra cosa siccome fa come dici te allora ci sono normalmente su quelli che dici te fabbricati sono muri da 50-60 cm e non penserei mia che con una controparete in cartongesso le tengo su quei muri lì quindi ci vorrà una struttura in acciaio come dici te con cemento armato quella superficie che mi obbliga a fare e mi sta bene non me la computi però non è che mi devo mangiare io la superficie di quello che era la consistenza perché su quattro lati ci devo fare un cordon un giro giro per rimettare esattamente il contrario perché no io ti faccio ti ho la possibilità di ricostruire cosa che non avresti potuto fare nel momento in cui ricostruisci anche se ti mangi un po' di superficie lo fai perché dopo ti ti prendi ricostruiti inutili le vuoi lasciar così le vuoi perdere proprio la testimonianza di tutti no non sono d'accordo questo non è vero bisogna saper fare posso dire una cosa siccome non mi sembra un tema mi sembra mi sembra che una soluzione si possa trovare onestamente ecco nel senso che intanto la cosa che dici Fabrizio forse magari uno lo può esplicitare come ritieni te nel senso che qui c'è c'è scritto solo non è ammessa la trasformazione delle strutture verticali e già per arrivare a dire che però quegli interventi li puoi fare ci vuole un ragionamento diciamo che non è magari immediatamente percepibile da chiunque o che può essere magari anche opinabile a seconda di chi legge la norma quindi magari esplicitiamolo quello che dicevi te e dopodiché forse forse Alberto il tema di quanta superficie consumo c'è fino a un certo punto nel senso che nel momento siccome qui te non hai dei parametri non è che c'è scritto 40 metri quadrati di superficie utile piuttosto che di superficie edificabili nel momento in cui mi fai la ricostruzione del rudere ma secondo me nessuno ti verrà mai a contestare che c'hai che ne so una superficie utile che è leggermente più grande perché no scusa una superficie edificabile che è leggermente più grande perché c'è da considerare uno spessore secondo me non c'è quel problema lì il senso della norma è c'ho un rudere se faccio un'operazione di ricostruzione dei suoi caratteri di conservazione dei suoi caratteri storici e di ricostruzione di qualità diciamo dei caratteri mancanti se l'edificio che viene fuori è sostanzialmente uguale a quello vecchio un credo che sia il metro quadrato che ti sposta le cose cioè mi sembra più una norma faccio un esempio pratico no normalmente i ruderi che abbiamo noi sono degli accampamenti siux sono tre sassi sparsi già è difficile individuare l'impronta però magari ci sono tre o quattro sassi se te mi dici se l'intendimento che dice Fabrizio è che è quello dell'amministrazione è di va bene per quattro sassi che sono i finali delle fondazioni me le mantieni no ok io ci faccio un bel solaio in blu dentro con la mia contraforte di cemento armato a mantenere che quattro sassi che sono lì sopra ci vado col misolaio che rivesto con sassi e vado sopra va bene così anche Fabrizio va bene così come 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 ti puoi già intervento no anche perché poi te lo valuta la commissione edilizia se va bene o non va bene però quando si parla molto architettonica ecco dove conta molto la qualità del progetto architettonico ma quando si parla di strutture verticali e delle aperture ancora esistenti si parla di qualcosa di consistente è chiaro che se c'è un metro come dicevo prima di vecchi sassi quella lì non è la struttura verticale esistente quella lì non ha senso mantenere un metro o due metri qui si tratta di mantenere una porzione di un fabbricato che ha una certa consistenza e allora è giusto tenerla in piedi però un pezzo di muro come dice Iacomini messo lì accampamento silux non è una struttura verticale e delle aperture esistenti non c'è più nulla quindi è una ricostruzione con la sagoma con tutti gli accorgimenti che ci vogliono con i materiali di una volta se uno ci vuole fare qualcosa di diverso di vetro o di coso passa attraverso la commissione edilizia con parere vincolante io la leggo in quel modo lì la norma cioè non è che leggo ma infatti per paradosso Roberto meno meno struttura c'è e più è facile recuperare no? cioè esattamente il contrario la difficoltà è il contrario di quella che dicevi che Alberto cioè la difficoltà ce l'hai se te c'è un fabbricato i tre piani tutto allo stato deludere c'è addirittura ancora visibile le finestre al terzo piano lì è la difficoltà ma quando c'è tre sassi solo per terra dov'è la difficoltà mantenere quei tre sassi lì è più che cioè si fa senza nessun problema ecco semmai la vedo più diciamo è più complicata questa norma più la struttura edilizia ha una sua complessità meno la struttura edilizia è complessa e più è facile e utilità applicarla nulla vieta comunque che come suggeriva Simone magari specifichiamo meglio che cosa significa non è ammessa la trasformazione no? appunto perché per esempio sulle aperture come dire se io ho appunto la porta sopra la finestra e ha una sua passo no? la facciata e non cambiare il passo della facciata no? perché ha una sua composizione no? e se invece appunto me la tappi e come faresti diciamo in un intervento che è diverso dalla ristrutturazione edilizia conservativa impedisce comunque proviamo a trovare un modo in cui Tantonella questo segnalo articolo 21,6 di specificare meglio il concetto di trasformazione o diciamo o al pari di conservazione delle parti permanenti diciamo allora scusate se torno indietro ma mi sono dimenticato una modifica insomma che ha una sua importanza articolo 17 allora qui la cosa che vi volevo segnalare è no? più su Fabrizio dove eri prima va bene la cosa che vi volevo segnalare è che voi sapete no? che c'è un ampliamento che noi abbiamo fissato no? in 15 metri quadrati che sono diventati 18 per quel ragionamento che si faceva prima sempre ammesso che la conversione diciamo così vada vada bene c'è un'addizione volumetrica premiale per chi stipula una convenzione ai fini della prima casa ci siamo sentiti di abbassare la durata della convenzione da 15 a 10 anni in accoglimento di una di una di una osservazione perché insomma capiamo che le cose della vita in 10 anni possono anche cambiare quindi magari uno è giusto anche che possa essere svincolato dopo un periodo di 10 anni che non è poco insomma nella vita di una persona o di una famiglia e l'altra cosa però che va sempre segnalata all'articolo 17 è Fabrizio vai un po' più giù dove eri prima è tutto il tema della prima casa legata agli edifici due che abbiamo recuperato tutta la norma che era nel vecchio regolamento urbanistico e che noi avevamo lasciato nel territorio rurale e ce l'avamo dimenticati diciamo di smetterla anche sui inserimenti storici esatto questa è la norma che avevamo già messo nel vecchio RU come diceva l'architettor Cinquini e che per errore era stata riportata nel PO soltanto nella parte rurale che invece andava ovviamente messa anche nel territorio urbanizzato quindi questa non è una non è una novità ma ve lo segnalo perché insomma è importante abbiamo corretto un'omissione diciamo un errore di omissione e poi andando avanti sempre fra le modifiche che mi sembrano più significative tanti sono aggiustamenti vi segnalo l'articolo 27 scusa Simone ma il comma la prima parte del comma 6 che consente anche il mutamento di destinazione d'uso dei manufatti pertinenziali per la prima casa questo va spiegato questo va spiegato nel senso che cosa succede brava Manola perché questa è una cosa molto importante da spiegare allora cosa succede trasferendo trasferendo la norma che avevamo messo no soltanto sul territorio rurale nel territorio urbanizzato ci siamo posti il problema di capire se nella diciamo nella riorganizzazione del tessuto edilizio ai fini della prima casa che vi ricordo nel caso di demolizione di costruzione non può essere superiore 80 metri quadrati ci potessimo anche mettere dentro le pertinenze cioè gli edifici di tipo di tipo pertinenziale abbiamo dato una risposta positiva cioè abbiamo detto se nell'ambito di una del territorio urbanizzato un cittadino ha un edificio che non ha una destinazione d'uso residenziale ma ha una destinazione d'uso diversa e fa un'operazione di ripulitura della propria della propria diciamo resede e di quindi riqualificazione chiamiamola ambientale paesaggistica ai fini della prima casa si parla sempre di politiche della prima casa quindi con la convenzione da farsi con il comune che ti obbliga a viverci se si fa un'operazione se un cittadino per le esigenze sociali fa un'operazione di questo tipo gliela consentiamo di fare anche mettendo in gioco volumi che abbiano una natura pertinenziale nell'operazione diciamo di demolizione e di ricostruzione e di riordino del tessuto edilizio ci possono stare dentro anche anche le pertinenze ma no facevi riferimento a questo vero? sì sì ora voglio dire una cosa anch'io questo capiamo cioè il territorio di comunale ma no la buonari giustamente questa cosa l'ha sottolineata perché è una novità molto importante nel senso che non soltanto abbiamo trasferito questa norma nel territorio urbanizzato ma abbiamo anche chiarito che l'ambito di intervento può coinvolgere anche gli edifici pertinenziali proprio per dare più possibilità di riqualificazione del tessuto edilizio ovviamente quando si fanno operazioni di demolizione e ricostruzione perché diversamente è difficile immaginarsela insomma l'applicazione della norma faccio la precisazione Riccardo scusa poi ti lascio la parola questo vale anche abbiamo fatto l'ultima precisazione per cui quando io usufruisco dell'ampiamento di 40 metri quadrati posso anche decidere di utilizzare l'ampiamento per recuperare nel caso di mutamente destinazione d'uso anche vari accessori che sono già nella sagoma nell'involucro delizio per cambiare le destinazioni e renderli definitivamente abitabili un garage che quindi può diventare un salotto o un magazzino che può diventare una cucina quindi quando te hai l'opzione dell'ampiamento puoi anche scegliere di utilizzare l'opzione dell'ampiamento per recuperare vani accessori e renderli principali scusa Riccardo no niente ma volevo chiedere una cosa nell'ambito di queste pertinenze che ci sono all'interno di unità immobiliare possono essere anche demolite e spostate o devono essere fatte nello stesso posto dove si trovano se sono recenti non sono sclassificate sì possono essere anche accorpate all'edificio principale appunto rientrano nelle possibilità e nella capacità di mutamento di destinazione lo puoi accorpare anche all'edificio però non pregiudichi 40 metri ulteriori 35-40 metri di ampliamento dunque se li muti di destinazione sì perché appunto te hai una superficie accessoria che diventa principale capito se invece li accorpi ma gli lasci la superficie accessoria poi puoi fare comunque l'ampliamento di 40 che poi è diventato 45 per anno quindi le puoi accorpare e le lasci come accessori quindi puoi fare l'ampliamento oppure le puoi spostare in un'altra zona della resede chiamiamola così dell'unità immobiliare e lì può diventare un'altra casa basta che sia di vita a prima casa e abbia le dimensioni minime che abbiamo da 80 metri no 80 metri 80 metri scusi poi massimo massimo minimo prima casa è 40 forse 38 l'abbiamo portato Simone non mi ricordo è 40 forse 38 non me lo ricordo nemmeno io ecco sia stata raccolta questa cosa qui Fabrizio mi fa piacere anche a me della convenzione perché ero effettivamente contrario al proprio di netto quindi voglio dire sono contenta anch'io che sia stata portata a 10 ma volevo dire gli 80 metri quadri sono netti o lordi? beh allora andiamo a vedere nella logica che abbiamo seguito fino ad ora gli 80 metri quadrati siccome indicano una dimensione massima dovrebbe essere secondo me superficie utile ma è la mia opinione non è che guardiamo un po' allora sarebbe buona e poi si possono avere tutti su un piano o su due piani no quello mi pare non l'abbiamo scritto non c'è un dipende 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 Michela dove sei no perché poi nelle varie zone sono possibili certe cose piuttosto che altre però è sparito Fabrizio ed è sparito anche no Fabrizio c'è Fabrizio mi sarà bloccato tutto non vedevo più nessuno ok volevo fare volevo fare una prima che tu intervenga Fabrizio chiedeva a Michela una domanda giustissima gli 80 metri quadrati sono di superficie utile secondo me dovrebbero essere di superficie utile però controlliamo per la logica che abbiamo usato sull'abitabilità forse andrebbe specificato anche edificabile edificabile ecco forse su questo si può ragionare perché lo dico con onestà intellettuale nel senso che siccome la misura dell'abitabilità noi abbiamo detto che si fa inutile forse si potrebbe anche qui forse si potrebbe anche scrivere inutile non so cosa ne pensi Fabrizio sì penso anch'io che non ci siano grandi grossi problemi a scrivere utile invece che edificabile mi sembra segnalo articolo 17 comma a 6 verificare un cambio da edificabile a utile visto che la superficie minima è inutile forse anche la superficie massima è giusto che sia inutile e guardiamo la prima casa se è 40 o 38 che non me lo ricordo è 40 l'ho controllato ma c'era un motivo si muove si fece tutto un ragionamento perché se l'avessi 38 poi non è perché sennò si rischiava che con l'addizione più grande del bravo esattamente esattamente ma va bene 40 volevo fare un intervento anche Fabrizio Simone e chi di dovere sulla scorta dell'intervento che mi ha preceduto di Riccardo dove diceva se ho un volume già presente una una già presente la corpo al fabbricato principale e gli avete risposto la sottraggo la sottraggo dal plafond dell'ampliamento no? perché non valutare invece come fa porto esempio di Petrasanta che l'ampliamento è l'ampliamento perché erodo erodo consumo del suolo no? mentre di superfici già assentite a Petrasanta ti fanno semplicemente pagare gli oneri e il costo sul cambio d'uso funzionale no? dico per esempio succede che ci sono tanti piani terra dei fabbricati che sono a 270 con ripostiglio 270 280 con destinazione ripostiglio stalle o quant'altro e fare il cambio di destinazione e monetizzare quel cambio ma non precludermi la possibilità di fare l'ampliamento essendo già delle superfici già esistenti da valutare questa opportunità qua per incentivare la riorganizzazione anche dell'otto perché tante volte sono edifici sparsi questo pensiero qua Alberto ti dico io una cosa di carattere generale senza entrare nel merito allora il problema allora noi soprattutto nel territorio urbanizzato abbiamo una certa libertà di disciplina allora il problema qual è per quello ti dico che diciamo il parallelo con altri comuni si fa male il problema qual è il problema è che te devi avere un equilibrio complessivo per il quale la disciplina che hai rientra come dire complessivamente ragionevolmente nel concetto di ampliamento di riutilizzo dell'esistente se te aspetta fammi finire se te hai una disciplina la cui sommatoria degli effetti no ti crea una sproporzione fra l'edificio di partenza e l'edificio finale il rischio è che tu casca e che tu caschi scusa in un fenomeno molto vicino alla nuova edificazione e se caschi in un fenomeno molto vicino alla nuova edificazione nascono una serie di problemi perché la nuova edificazione è diciamo governata dal dimensionamento del piano strutturale e ha delle regole diverse allora qual è la nostra preoccupazione te lo dico con sincerità è che se non si tiene un equilibrio poi si possa mettere in difficoltà diciamo l'iter del piano perché ti faccio riflettere su questo noi abbiamo 40 metri quadrati nell'edificato recente va bene che è quello più diffuso abbiamo 40 metri quadrati di ampliamento insomma 45 i vecchi 40 metri quadrati di superficie utile per capirsi abbiamo i 15 metri quadrati per chi fa un intervento di prima casa e siamo già 55 se io se io non ho una norma è 18 è 18 è stato 18 però di superficie edificabile diciamo io sto facendo il paragone con la vecchia superficie utile va bene in superficie utile 40 più 15 diciamola diciamola così se io inserisco una norma che dice che qualsiasi vano accessorio diventa abitabile e non mi consuma niente il rischio può essere quello che qualcuno mi dica fra ampliamenti che concedi e norme che liberalizzano diciamo i cambi in uso te hai come dire un panorama che non governi più non so se mi sono spiegato il ragionamento allora c'è parso c'è parso che in considerazione che noi mettiamo sempre quasi sempre fino alla sostituzione edilizia Simone che anche questo è importante esatto a noi c'è parso che diciamo dire che quando fai in questo contesto che insomma che ne dà di possibilità avere una norma di governo diciamo dei cambi d'uso dei mani accessori ci consenta di essere più forti nella tenuta del piano rispetto al sistema di regole che abbiamo non so se mi sono se mi sono spiegato perfettamente scusa Simone per me forse una via di mezzo ti propongo una via di mezzo lasciando lasciando quelli spazi prevedere che quelli all'interno già della sagoma del fabbricato che sono già lì dentro all'interno della sagoma prevedere questa possibilità qui sono già all'interno dell'involucro edilizio quelli che sono al loro interno prevederne il cambio d'uso funzionale è un cambio d'uso funzionale cioè te stai dicendo Alberto se ho capito bene un conto è il garage o la baracca che ho nel resede e un conto è il vano accessorico già nell'involucro e ha già le caratteristiche indipendentemente dall'intervento edilizio stai dicendo questo esattamente su questo ci si può ragionare dai aspettiamoci cosa posso per chiudere forse voglio capire una cosa però sono sempre ammessi gli accorpamenti dei garage eccetera all'unità immobiliare mantenendo però la caratteristica di garage eccetera questo è per a prescindere quello puoi fare a prescindere questo è chiaro e in più c'è l'ampiamento esatto esatto ora Alberto dice ho capito di farli diventare parte della cassa quelle che già ora sono diciamo all'interno nell'involucro dell'unità immobiliare che già si può valutare perché effettivamente il pericolo che venga vissuto diciamo come nuova edificazione non ci dovrebbe essere onestamente quindi lo mettiamo da parte si valuta va bene io però posso fare un ragionamento di Alberto secondo me varrebbe di più ma lo dico così ora è un ragionamento filosofico ovviamente quindi mi addentro diciamo nella dimensione più politica e non tecnica forse sarebbe utile questa norma soprattutto per gli insediamenti storici cioè mi spiego meglio siccome io l'insegnamento storico per sua natura non lo posso demolire quindi devo necessariamente ristrutturare e quindi dovendolo ristrutturare io non c'ho mai la possibilità della sostituzione edilizia mi spiego come se c'ho un fabbricato storico Fabrizio potete spegnere un attimo i microfoni perché viene male la voce seguendo il ragionamento di Alberto mi sembra che la proposta di Alberto sarebbe utile soprattutto secondo me in tutti quelli che sono gli insediamenti storici perché l'insediamento storico non può fare la sostituzione edilizia e neanche la ristrutturazione edilizia conservativa cioè io devo conservare il manufatto non lo posso demolire accolpare mi segui e quindi inevitabilmente mi può capitare di avere la cantina il vecchio magazzino che magari ha i requisiti di altezza eccetera per poter mutare di destinazione ed uso e peraltro io siccome non lo posso abbattere perché non lo posso cambiare d'uso viceversa invece la villetta degli anni 60 o il capannone degli anni 70 che posso tranquillamente demolire le facce a sostituzione edilizia e riorganizzarlo come impare magari no cioè mi sembra premiante questa norma che dice Alberto soprattutto se noi la introduciamo negli insediamenti che noi sia in territorio rurale che in territorio urbanizzato ma che siano storici no perché va incontro alla possibilità del loro riuso sì io sono d'accordo mi sembra una norma che ha un senso oltretutto dal punto di vista poi dei caratteri dell'edificato non si interviene di fatto cioè si lo fai con un intervento soft di ristrutturazione edilizia non di sostituzione e anche forse e anche forse nemmeno formale secondo come nemmeno formale perché se i caratteri li ha già certo che li abbia nell'edilizia storica i requisiti è sempre un problema già quando sono abitazioni figurati e pertinenze però insomma no ma per esempio su nelle su nelle nelle semiglie io ho prontezza di tanti fabbricati che il piano terra una volta c'erano le cantine e ci facevano il vino no? e sono alti anche 3,50 3,60 e mi pare un controsenso non dargli la possibilità di riutilizzarli no? perché oggi che ci fermano le cantine 3,50 ma già adesso possono essere recuperati se ci hanno requisiti igienico-sanitari lo puoi fare cioè le norme te lo ammettano le altezze l'ottavo e così via questo è chiaro il problema suppone quando c'è il garage a piano terra dato in deroga che in realtà di fatto la nostra norma lo consente io non capisco questa norma qui se ho capito bene è che ti fa cambiare manufatti dati in deroga le pertinenze i forni le legnaie i garage e così via sì è vero è vero questo è vero sono i pertinenziali in deroga in deroga perché in effetti noi negli storici il mutamento non la limitiamo mai non la limitiamo la norma cioè è in deroga l'hai visto Fabrizio qui no è in deroga avevano un indice dal vecchio regolamento urbanistico e questo indice di 08 era un indice volumetrico senza il garage quindi siamo stati costretti a fare anche una norma che diceva il garage a piano terra sopra ci devono andare i fabbricati di civile abitazione cioè la residenza se no facevano tutti i laterali questa norma è per questo l'abbiamo illustrata male dai l'abbiamo cioè l'abbiamo non illustrata male parzialmente l'abbiamo illustrata male nel senso che questa limitazione rileggiamola se è scritta bene ma questa limitazione vale sostanzialmente per i garage perché poi i manufatti in deroga Simone anche le centrali termiche date in deroga i garage i forni e le legnaie e basta dicevo manola dicevo sostanzialmente i garage perché scopla la prima cosa e no fa il mutamento di destinazione d'uso e quindi può riavere il garage un'altra volta il cambio d'uso per la prima casa può riavere il garage quando il regolamento edilizio lo ridisciplinerà un'altra volta io la leggo così poi la dovevamo scrivere così ora poi se non è chiara cioè sistemiamola ecco è l'articolo Fabrizio sì me lo dite dov'è che non lo trovo più insomma 6 dell'articolo 17 era quella che tu vedi d'accordo che si rialgarà un'altra volta dimostra abbiamo fatto una discussione questo questo ma te non è quello dell'articolo 6 dell'articolo 16 no è 17 l'articolo 16 è sulla prima casa sul 17 è in generale un ragionamento che quando te intervieni su questi che sono i volumi accessori dati in deroga cioè quello che forse abbiamo spiegato male è questo provo a spiegare di spiegarlo io poi forse su questo ma non è anche più brava di me perché l'ha molto chiaro nell'attuare il regolamento edilizio sono ammessi tutta una serie di manufatti che vanno in deroga agli indici di fabbricabilità del regolamento urbanistico no? cioè indipendentemente da quello che ti ammette di regolamento urbanistico in termini di ampliamento di indici fondiari eccetera te il garage la legnaia tutta una serie di cose le puoi fare in più no? peraltro questa norma rimane perché noi il regolamento edilizio che varrà rinnovato manterrà questa possibilità di fare tutti questi manufatti in deroga no? allora però che cosa si dice? che qualora tu per tue esigenze tu li voglia recuperare per mutarli in destinazione d'uso siccome io te lo concessi in deroga quindi non facevano parametro urbanistico io ti concerto di farlo ma lo fai perché lo utilizzi andando a erodere le opportunità di ampliamento e non in un altro modo perché se altrimenti si riterebbe diciamo in continuo il fatto che costruisco in deroga poi gli muto di destinazione poi ricostruisco in deroga poi gli muto di destinazione e così via no? quindi si creerebbe un circolo non virtuoso in cui come dire l'espansione in deroga poi è sempre mutabile capito? sì sì ma è così l'errore l'ho commesso anch'io perché siccome ci abbiamo ragionato tanto come accennava ora Roberto diciamo in fase istruttoria alla fine il punto di approde è stato questo non consuma l'ampliamento ora io non mi ricordo dove l'abbiamo usato no perché il ragionamento Alberto e Riccardo il ragionamento è stato questo ve lo dico anche più ulteriormente in dettaglio siccome noi misuriamo le facoltà edificatorie in superficie edificabile e la superficie edificabile tiene dentro di sé anche le superfici accessorie abbiamo poi siamo arrivati a dire che ci sembrava coerente con questa impostazione perché no uno sceglie una strada e deve cercare anche una coerenza dire se io prendo una superficie accessoria e la trasformo in una superficie abitabile perché ne ho le condizioni igienico-sanitarie per farlo è giusto che non mi si consumi la superficie edificabile perché sta dentro la nozione di superficie edificabile ok? e quindi hai ragione te Alberto il concetto è quello dopodiché giustamente l'obiezione è stata diciamo no sul fronte tecnico ma questo però non può valere per i manufatti dati in deroga cioè per i manufatti dati per assolvere ad una funzione specifica cioè ti davo il garage in più perché avevi bisogno di parcheggiarci l'automobile allora per quelli lì ma solo per quelli lì la trasformazione consuma la facoltà edificatoria è questo il ragionamento che si è fatto invece se io ho un vano dato nell'ambito delle facoltà edificatorie che le hanno concesse che poi io lo usi per funzione accessorio o per funzione abitabili purché ci sono i requisiti genico-sanitari questo non è elevante è questo il ragionamento corretto non l'abbiamo diciamo spiegato bene all'inizio alla fine della storia poi tanto non cambierà comunque perché io ho capito il nobile tentativo e anche condivisibile ho capito ho capito ho capito grazie però è chiaro che chi ha possibilità di fare i 40 metri quasi o 45 quelli che saranno no Simone e ha già il garage uno leverà mai il garage no farà 45 e poi il garage la corpo ed auro lascerà lì dov'è capito? cioè non viene meno non viene meno niente non cambia assolutamente niente perché chi c'è la giacquina lì ancorché in delga se lo mantiene beh però non è proprio possibile ma non ho capito allora io si sono dette troppe cose non ho capito allora il garage entra come nuova edificazione no io lo so il garage consuma consuma l'ampliamento volevo dire se la corpo ha la casa se io ho un garage e lo trasformo se io ho un garage nel senso di un dato in deroga no? cioè a suo tempo ti ho dato l'opportunità di fare il garage se io trasformo il garage in una in una stanza della casa mi consuma l'ampliamento perché quel volume te l'avevo dato in deroga per fare il garage se io invece ho un vano accessorio va bene? in casa mia che è figlio della volumetria che mi spettava di diritto dal piano a prescindere dall'uso intendo dire sono libero di fare l'uso che ne voglio purché rispetti le normative igienico-sanitarie cioè se io avevo l'opportunità a suo tempo di fare una casa di 80 metri quadrati ho fatto una casa di 80 metri quadrati e c'ho un vano accessorio di 12 metri quadrati che ora uso che ne so come ripostiglio faccio per dire se quel vano accessorio ha le caratteristiche per essere usato come una camera da letto ok o posso fare interventi minimi che il piano mi concede no che ne so un'apertura di una finestra per renderlo abitabile io lo posso fare senza consumarmi superficie perché? perché in quel caso lì fa parte già dei diritti edificatori che avevo a prescindere dall'uso accessorio o meno fa parte della casa che avevo già era l'obiezione che ci ha fatta Alberto e che era giusta ma noi l'avevamo senza averlo spiegato bene già considerata nella costruzione della norma perché il limite riguarda solo i vani dati in deroga che sono quelli che ha detto la Manola Bonari prima cioè i garage le centrali termiche perché se io ti do un vano per metterci la caldaia è chiaro che se poi te lo vuoi trasformare in stanza siccome io te l'ho dato in più per metterci la caldaia no o la centralina termica è chiaro che a quel punto è giusto che consumi diciamo l'ambiente quindi la norma però è importante la norma però ma no la correggimi e poi se sbaglio la norma però è importante perché in ogni caso tornando al ragionamento di prima nelle politiche di prima casa nelle politiche di prima casa invece ti consente ai fini della prima casa di riusare tutti i volumi che vuoi ok perché magari lì c'è l'esigenza sociale che è quella della prima casa della convenzione eccetera eccetera e in più rifare in deroga quello che regolamenta l'edilizio di là per quello che è rimasto posso fare una domanda Simone volevo chiedere una cosa se uno ha una volumetria regolarmente acquisita o presa all'asta insomma comprata oppure che gli è venuta un'eredità ok mettiti 200 metri insomma una volumetria regolare e ci vuole fare la prima casa può fare solo 80 metri il resto lo butta via tutto e fa demolizione ricostruzione sì se fa un intervento che prevede la demolizione con la ricostruzione e hai una destinazione d'uso diversa sì se no no questo obbligo scatta quando demolisci e ricostruisci l'idea Michela è ti do l'opportunità di trasformare un oggetto in abitativo però mi fai un'operazione di recupero paesaggistico ambientale perché nelle zone diciamo del nostro territorio a volte ci sono anche delle situazioni che vanno riordinate cioè a volte ci sono immobili condonati brutti molto grandi se è la politica per la prima casa no non è che ci possono venire fuori 3, 4, 5 unità abitative non è che ci può venire fuori il villone di 400 metri quadrati attenzione che su questo Simone mi permette scusa di interrompere su questo c'è proprio una giurisprudenza consolidata di lottizzazione abusiva attenzione cioè se io abbatto un capannone e siccome ho tanta consistenza ci faccio quattro villette è lottizzazione abusiva non si può fare quindi a calibrare roba regolare che gente ha perché c'è gente ma è lo stesso perché c'è in territorio agricolo capito Michela quindi bisogna il motivo per cui nel caso della demolizione totale e ricostruzione si calmiera rispetto alla dimensione magari valutiamo se vogliamo estenderla diversamente abbiamo già detto da superficie edificate se la gente non debolisce e ricostruisce lo può ricoperare in qualche modo deve buttare via questa superficie ma appunto non lo puoi ricostruire perché si configurerebbe cioè un contest e te il capannone come dire lo ristrutturi lo fai a fette lo riorganizzi ma rimani dentro l'involucro edilizia e questo nessuno te lo può impedire ma nel momento in cui lo abbatti quindi fai un nuovo insediamento bisogna stare attenti che il nuovo insediamento non sia una lottizzazione anche qui Michela tendenzialmente cosa succede succede che se uno fa un intervento diciamo fino alla ristrutturazione edilizia conservativa cioè che mantengo l'involucro che ho vuol dire che come dire che agisco su un bene che ha una sua consistenza spesso ha anche un suo pregio che pensa appunto agli edifici del patrimonio storico ci possono essere edifici storici con una destinazione d'uso non residenziale che sono belli quindi finché io lavoro sull'esistente problemi non ce n'è nel momento in cui demolisco e ricostruisco è lì che nasce diciamo il tema e allora siccome questo capisco però pensano avere una cosa nelle zone collinari spesso ci sono delle situazioni di degrado assoluto condonate e lì ha senso dire mi fai un'operazione visto che demolisci perché lei è il troiaio mi fai un'operazione di ripulitura e diciamo siccome è per la prima casa si fa solo per la prima casa diciamo si prova a dare una dimensione che è quella diciamo di una famiglia normale ecco 80 metri quadrati superficie utile è una famiglia normale ed è una casa abitabile insomma da una famiglia una famiglia normale volevo per chiudere poi non dico altro la scia di quello che ha detto Lucchesi no Roberto allora se io questi queste pertinenze le trasformo in prima casa no e posso trasformarle in prima casa dopo in deroga mi può essere ridato il permesso di ricostruire il garage eccetera mi sembra aver capito questo Roberto o sbaglio ce l'hanno cioè il garage in deroga si dà ai fabbricati in civile abitazione che ne è sprovvisto se la norma ti dice puoi recuperare il garage che hai per farci la prima casa è chiaro che secondo me si può riparare il garage anche al posto di quella che è stata usata come prima però Roberto secondo me il punto è che lo dovremmo stabilire nei regolamenti di inizio nel senso nel senso che noi abbiamo scritto che tutta questa disciplina sta nei regolamenti di inizio e tra l'altro Riccardo questo è un tema vero da regolamenti di inizio cioè lo dovremo decidere perché non è così automatico secondo me nel senso che io ti do l'opportunità di riorganizzarti il tuo volume addirittura ora abbiamo scritto 80 metri quadrati di superficie utile quindi ci può essere anche un po' di superficie accessoria e insomma non lo so se in automatico ti do il garage ecco cioè non lo spiega male non è in automatico i regolamenti di inizio lo fanno prevenire non è stabilito non è stabilito nei regolamenti di inizio appunto dicevo però uno nel campo nel campo dei regolamenti di inizio si può dire eventualmente che quella cassa che non ha il garage è in deriva li viene evitato infatti lo dico così magari è un tema di inizio sì non ha uno sì a uno no ecco o viene detto sì o viene detto no certo è una regola generale certo scusate anche un'altra mozione d'ordine dal momento che sono le 5 e mezzo allora io posso trattenermi fino alle 6 la Michela anche la Michela ha dei problemi di orario è già uscita infatti quindi se abbiamo esaurito questo argomento direi di procedere ma è fino alle 6 quindi Jacopo dicevi sì sì ok ok poi un altro diciamo tema che merita attenzione è all'articolo 27 siamo nell'area delle bocchette qui c'erano sostanzialmente una serie di osservazioni volte a ampliare un po' di più le funzioni ammessa alle bocchette che in questo momento sono industriale artigianale e commerciale all'ingrosso e depositi diciamo il punto di caduta che avremmo trovato è che alle bocchette è ammesso anche fino al 30% della superficie esistente il direzionale di servizio la categoria direzionale di servizio e che una percentuale maggiore di questa categoria funzionale è ammessa se c'è un piano unitario convenzionato che viene riconosciuto di significativo interesse pubblico dal consiglio comunale quindi ci è sembrato che questa norma sia diciamo introduca un elemento di flessibilità che può essere utile per quella zona del nostro territorio senza diciamo mutarne l'identità fondamentale che è quella di essere una zona artigianale industriale tanto più che non nella categoria funzionale direzionale di servizio ci possono andare diciamo una serie di funzioni che si sposano bene diciamo con con l'attività industriale artigianale o col commercio all'ingrosso tenete conto che ormai appunto c'è tutto il tema dell'industria 4.0 quindi ci sono anche tante attività soprattutto nel digitale nell'informatica che si insediano giustamente in area industriale ma che prevalentemente non hanno un come dire laboratorio officine di trasformazione ma soprattutto hanno uffici tecnici hanno magari laboratori più piccoli quindi nel direzionale di servizio c'è anche diciamo una funzione produttiva tecnicamente innovativa che vale la pena diciamo in qualche maniera di consentirla diciamo dentro le aree industriali più andremo avanti diciamo nell'evolversi della tecnologia e più questa ambiguità tra cosa è direzione di servizio e cosa è artigianale industriale diventerà inevitabile perché appunto c'è chi fa industria in maniera telematica ormai in forma digitale quindi da questo punto di vista ci sembrava che potesse essere un'opportunità che davamo alle bocchette in più dell'esclusiva artigiana industriale sì sono d'accordo ma allora perché prevedere un progetto unitario convenzionato quando la dimensione supera il 30% per avere un controllo maggiore riccardo ma insomma ci si può ragionare su questo sugli interventi grossi nel senso che magari ci possono essere interventi su capannoni molto grossi ci può essere una scala dell'intervento che merita di essere manola spingete il microfono se non si sente ah sì c'è una scala dell'intervento magari importante che se il consiglio comunale la controlla può essere può essere meglio ecco la valutazione è questa insomma pensavo fosse un limite capito magari non lo so magari richiede tempi vabbè sai il PUC comunque è uno strumento molto agile perché non c'è la doppia approvazione c'è un solo passaggio in consiglio comunale però ha il vantaggio che intanto è uno strumento attuativo di natura urbanistica quindi permette agli uffici di controllare gli standard urbanistici anche tutta una serie di cose che magari nell'intervento diretto fatto solo in forma unilaterale dal privato rischia anche di creare un po' di confusione in questa maniera diciamo non è un piano attuativo è un PUC quindi è un progetto immediatamente dopo il titolo quindi in realtà non è così complicato il PUC ha il vantaggio diciamo di un solo passaggio in consiglio comunale io ho capito ma non so se uno sviluppa un'area direzionale di servizio quale possa essere l'interesse pubblico ecco era lì il mio ragionamento a questo è un altro discorso cioè te dici che cosa si ravvisa l'interesse pubblico questo magari faccio Simone è anche più chiaro di me probabilmente è nel fatto che te comunque mantieni un'attività produttiva innalzi i livelli di occupazione rigeneri comunque un tessuto che magari è abbandonato cioè quindi o sottutilizzato in questi termini qui non è che in cambio ti vengono misure compensative e perequative in cambio ti viene diciamo la rigenerazione di un insediamento posso fare una domanda magari magari banale è sforgita a me però è un tema è un tema che magari è rimasto non so spese le volte scorse faccio un passo generale quando mi date la possibilità di recuperare i fabbricati esistenti no per trasformarli in civile abitazione la parte preesistente è implicito che me la fate adeguare agli standard o devo partire da una situazione che abbia già degli standard ovvero il classico metato che posso recuperare che magari l'altezza 2,40 o la superficie all'illuminante non sono soddisfacenti non sufficienti cioè è implicito che lo adegu quella parte che è esistente io scusa Alberto non ho capito la domanda ma davvero non l'ho capita io quando mi date la possibilità di recuperare in civile abitazione il patrimonio edilizio esistente che non è civile abitazione no dico la parte che è preesistente è implicito che l'altezza se non è 2,70 me la fate portare a 2,70 no non è implicito e se no se un manufatto fosse un metro te che fai lo alzi di un metro e settanta no non è implicito cioè regolamento edilizio potrà stabilire l'abbiamo scritto diciamo in che misura no gli interventi strettamente necessari all'adeguamento igienico funzionale igienico sanitario sono ammessi no oltre diciamo i normali ampliamenti ma si tratta come dire di cose minime no nel senso che se no te devi usufruire degli strumenti che il piano ti offre l'ampliamento la soprelevazione a volte dell'edificio a un piano quindi queste cose queste cose qui voglio essere più diretto tutti i fabbricati due identificati col simbolino due che sono quelli che tutti possono diventare civile abitazione no quello che abbiamo sbandierato sulla scorta cioè qual è l'impianto di base che mi consente di diventare civile abitazione perché allora non è tutti possono diventare civile abitazione possono diventare civile abitazione quelli che attraverso gli interventi ammessi raggiungono i requisiti igienico-sanitario ma questo vale sempre cioè in urbanistica ed edilizia vale sempre non è che non c'è mai una situazione nella quale tutto può diventare civile abitazione dipenderà dalle caratteristiche del fabbricato di partenza no non è nemmeno giusto che tutto diventi civile abitazione non è che se io cittadino ho un edificio di una certa consistenza e sono nella stessa situazione di uno che magari ha 5 metri quadrati condonati no ora 5 metri quadrati una senso 10 12 15 questo va sempre però alberto non cioè la differenza lo fa la dimensione del fabbricato no e questo lo usano sempre 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 dico ci sono quelli che posso diventare con l'ampliamento possono diventare civile abitazione perché raggiungono i minimi ok stiamo d'accordo se la parte preesistente quella che c'è ora che può godere di questo ampliamento è 2 40 2 50 invece che 2 70 me lo fate portare a 2 70 se no viene meno i 40 metri quadrati di ampliamento se gli originali 30 metri non hanno 2 70 d'altezza questo che volevo dire io me le fate adeguare quelli che mi fanno scattare l'opportunità di diventare civile abitazione ve le fate adeguare questo non vado errato poi cinquini bonari anche roberto sono qui noi potremo stabilire perché questo insomma è ragionevole farlo nel regolamento edilizio diciamo un margine diciamo per l'adeguamento igienico sanitario ma siccome sono quel tipo di diciamo interventi che esulano dalle facoltà edificatorie è chiaro che è un margine che dovremmo valutare ma che è ristretto cioè in situazioni dove te sei vicino ad avere un requisito igienico sanitario e ti basta poco per riuscirci quanto credo che noi lo dovremmo stabilire nel regolamento edilizio mi sbaglio Fabrizio? una specie di tolleranza massima no? sì mi sembra di sì ora che è anche a Manola che ci sta lavorando ma credo sia così cioè sia l'adeguamento antisismico sia l'adeguamento igienico sanitario avrà un limite entro cui questo è ammissibile oltre il quale no perché appunto vuol dire che te stai puoi recuperare un edificio che non può avere le caratteristiche per essere recuperato non tutti gli edifici hanno le caratteristiche per essere recuperati cioè ci sono edifici che ce l'hanno edifici che non ce l'hanno l'altra cosa che può fare regolamenti edilizio tentare con molta difficoltà perché le asole spesso poi non danno il parere positivo deroghe alle altezze di natura igienico-sanitaria nel caso del recupero o sulle pareti sapete no sulle sulle altezze interne però questo va chiesto all'asle e se l'asle è che lo concede eventualmente la derga no rispetto a quelle ministeriali e noi su questo si prova a lavorare a un regolamento vediamo se l'asle ci viene dietro cioè una parte dei regolamenti purtroppo su questo c'è proprio una carenza legislativa dal 75 che mai è stata colmata noi abbiamo ancora una norma obsoleta nazionale che obbliga sia alle superfici aereoilluminanti sia alle altezze che ormai è priva di senso è un controsenso proprio ormai tecnico pensate che per dire negli altri paesi si fanno gli interassi per essere più bassi per il contenimento energetico o per velocizzare il raffrescamento così come la superficie aereoilluminante in un momento in cui gli edifici sono perfettamente sigillati e hanno tutti impianti di criminalizzazione sia estivi che invernali non ha più significato erano norme che avevano un senso quando l'edilizia era di un certo tipo però purtroppo qui finché non interviene il cosiddetto legislatore nazionale e noi ci possiamo fare poco o nulla ma no ma dicevo ti torna quello che abbiamo detto di Fabrizio rispetto al lavoro che c'è da fare nei regolamenti di vizio avevamo anche già incominciato un pochino a porsi il problema se ricordi se ne parlava un pochino l'abbiamo accennato ricordo sì poi se l'ha detto che si ragionava insieme insomma se ne parlava chiaro che poi ora io non l'ho detto perché noi dovremo anche discutere regolamenti di vizio qui soltanto che abbiamo diciamo uno sfasamento temporale legato al fatto che in ogni caso dopo che avremo diciamo discusso e votato le osservazioni in consiglio comunale il leader di questo piano non sarà concluso perché c'è una conferenza dei servizi finale col ministero dei beni culturali in particolare che è quella che ci deve dire se abbiamo fatto bene il lavoro se l'abbiamo fatto diciamo da modificarsi e tra l'altro se poi ci verranno indicate in conferenza dei servizi delle modifiche da fare e ci sta che qualcosa ci chiedano di modificare insomma bisognerà tornare in consiglio per recepire quelle modifiche e tra l'altro senza grandi margini di manovra nel senso che è un controllo esterno chiamiamolo di legalità al quale ti devi sostanzialmente adeguare per cui per cui diciamo nel periodo di tempo che ci sarà fra la valutazione delle osservazioni già fatta dal consiglio comunale e l'approvazione finale del piano quel tempo noi lo possiamo usare per lavorare su regolamenti edilizio l'obiettivo sarebbe che il nuovo piano operativo e il regolamento edilizio che invece ci si va solo una volta al consiglio ed è approvato l'obiettivo è che il regolamento edilizio e il piano operativo entrino in vigore insieme in modo che non abbiamo una situazione diciamo neanche temporanea di difficoltà nel senso che abbiamo bisogno di un regolamento edilizio che si sposi con il nuovo piano operativo non so se vi sono spiegato siccome il liter del piano operativo è più lungo possiamo usare il tempo che abbiamo per lavorare su regolamenti edilizio in modo che quando si va all'approvazione finale ci abbiamo anche i regolamenti edilizio vado avanti? non so se sulle bocchette Riccardo mi ha fatto una domanda che però poi è stata interrotta dal vetto quindi non me la ricordo neanche più come dicevi te Fabrizio nel senso che per interesse pubblico qui Riccardo si intende semplicemente scriviamolo anche meglio se è il caso si intende semplicemente una valutazione politico-amministrativa sull'opportunità che nell'ambito dello sviluppo di una certa area ci siano funzioni che ci vengono proposte diverse da quelle artigianali industriali in senso classico e commercio all'ingrosso Fabrizio ha fatto bene a fare riferimento a questa nuova industria digitale ma insomma di vario tipo che a volte non si inquadra neanche bene nelle categorie tradizionali cioè per esempio c'è tutta l'industria legata alla comunicazione che spesso producono beni e servizi senza le caratteristiche dell'azienda classica cioè magari sono più simili a un ufficio che a che a un'azienda come noi ci siamo immaginati come noi ce ne immaginiamo tradizionalmente e quindi a volte si fa fatica anche a inquadrarle dal punto di vista della destinazione d'uso quindi è anche un elemento di flessibilità per accogliere queste novità insomma novità che poi ormai non sono neanche tutta altra novità perché è un'evoluzione in corso insomma da molti da molti anni quindi sì per interesse pubblico qui si intende una valutazione nostra nostra intendo di chi amministra del Consiglio Comunale sull'opportunità ecco di dare ad una ad una zona no opportunità di sviluppo ulteriori ecco quindi se lo possiamo scrivere meglio scriviamolo meglio nel senso è questo è questo qui poi allora mi ero segnato altre tre o quattro cose l'unica cosa Fabrizio qui non mi sono segnato gli articoli quindi magari proviamo insieme a trovarli allora abbiamo introdotto una disciplina di valorizzazione però io onestamente non mi sono segnato dove per mia negli appunti insomma ho commesso un errore della rete dei percorsi storici cioè noi abbiamo individuato nel nel patrimonio territoriale nella carta del patrimonio territoriale tutta una serie di percorsi storici ora abbiamo introdotto nel piano operativo una disciplina che cerca sostanzialmente di tutelarli e che impone quindi soprattutto nella presentazione insomma delle pratiche edilizie una serie di diciamo così accorgimenti volti per metterci il controllo della difesa di questo patrimonio però ripeto qui l'errore l'ho commesso io non mi sono segnato dove è la modifica forse però l'articolo è questo Fabrizio guarda un po' il 69 non c'è quindi non è qui e allora e da qualche altra parte vabbè mi riservo poi di dirvelo dov'è però la sostanza è quella che che vi dicevo poi un'altra novità un'altra novità più che una novità è una diciamo così un rafforzamento di cose che ci eravamo già detti è che noi e questo credo Fabrizio stia nella parte delle opere pubbliche nella parte dove c'è una destinazione di attrezzature pubbliche o di interesse generale penso stia lì però non ne sono sicuro riguarda diciamo così l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica e ambientale nella realizzazione delle opere cioè noi diciamo quando si interviene no in ambiti delicati con opere insomma con opere pubbliche si deve assolutamente far ricorso laddove non ci sia diciamo un'impossibilità tecnica alle tecniche di ingegneria naturalistica e ambientale però anche qui non mi sono segnato dove l'abbiamo dove l'abbiamo inserito ora magari poi attraverso la ricerca si fa anche velocemente a trovargli questi articoli intanto ve le illustro poi ecco altre due novità di di rilievo e sono mi sembra almeno per quello che ho visto io le ultime due sono queste e queste forse Fabrizio le trovi più facilmente allora il tema è questo nelle schede norma come vi abbiamo detto spesso sono disciplinati interventi anche sul patrimonio edilizio esistente quelli diciamo più grossi dove c'è dove ci sono operazioni di rigenerazione urbana più importanti ecco qui il punto è se un cittadino non fa l'intervento previsto dalla scheda norma ma vuole intervenire semplicemente sul patrimonio edilizio che ha diciamo in termini di conservazione anche di rifunzionalizzazione ma senza sostanzialmente demolire ricostruire cosa può fare punto interrogativo allora la norma in serie di adozione diceva può fare fino alla manutenzione ordinaria quindi no forse diceva anche fino alla manutenzione straordinaria 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 diciamo la norma in serie di adozione diceva puoi fare la manutenzione anche straordinaria ma puoi fare solo la manutenzione quindi sono un sono proprietario di volumi che fanno parte di una scheda norma dove quindi è prevista un'operazione di demolizione ricostruzione e di cessione al comune di opere pubbliche se non faccio quello mi limita la manutenzione anche straordinaria ma mi limita la manutenzione ci siamo domandati sulla base di alcune osservazioni se non fosse il caso di dare qualche opportunità in più a chi non vuole attuare una scheda norma ecco siamo arrivati e questo è il punto saremmo arrivati a dire che si può fare fino alla ristrutturazione edilizia conservativa quindi io sono proprietario di un patrimonio edilizio nel quale è previsto demolizione e ricostruzione in cambio di opere pubbliche sostanzialmente o di cessione di spazi al comune decido che non ci sono le condizioni di mercato per fare quello che prevede la scheda norma cosa posso fare noi ci siamo sentiti di dire puoi arrivare fino alla ristrutturazione edilizia conservativa cioè puoi fare diciamo anche interventi importanti che ti consentono di recuperare il patrimonio edilizio senza demonirlo e ricostruirlo guardate questa è una scelta diciamo non scontata che si può vedere anche da più punti di vista nel senso che uno potrebbe dire no siccome voglio l'opera pubblica siccome voglio che tu rigeneri quel patrimonio come dico io non te lo faccio fare la ristrutturazione edilizia ricostruttiva ti limitiamo a fare la manutenzione quella te la devo dare insomma ci mancherebbe ti limiti a fare la manutenzione noi non ce la siamo sentita cioè ci siamo sentiti di essere un po' più aperti perché non è facile stabilire oggi le condizioni di mercato di un intervento no noi immaginiamo oggi delle schede norma che non è detto che funzionino nel tempo perché cambiano l'abbiamo visto anche le condizioni socio-economiche spesso allora per non creare situazioni in cui la scheda norma non parte e però te c'hai anche problemi di degrado che vanno recuperati ci siamo sentiti di allargare un pochino le maglie cioè di dare più possibilità a chi decide di non fare una scheda di non attuare una scheda norma non so se mi sono se mi sono se mi sono spiegato possiamo fare anche degli esempi vorrei fare un esempio ma forse si farà in un'altra sede perché magari dopo chiamo in causa alcuni proprietari e non è sì ecco questa è la raccomandazione utilizziamo sempre un termine generico mai riferita alle problemi poi se si ne può riparlare comunque riccardo riguarda tutte le schede norma dove ci sono dei volumi esistenti ok quindi gli esempi potrebbero essere svariati tutte le volte in cui ho una scheda norma che mette in gioco dei volumi esistenti diciamo ho due possibilità faccio la scheda norma oppure mi limito diceva la norma adottata a fare la manutenzione noi diciamo no puoi anche fare qualcosa di più perché magari viene fuori che attraverso una ristrutturazione edilizia diciamo così consegui comunque un obiettivo positivo di recupero del patrimonio e vorrà dire che non è fatta la scheda norma perché evidentemente non c'erano le condizioni quindi è un'opportunità in più che si dà a chi è proprietario di un bene alternativa direi un'alternativa di processo ho capito ma volevo capire la differenza poi di c'è la manutenzione straordinaria e l'istrutturazione edilizia conservativa ecco questo guarda purtroppo Riccardo è difficile sempre di più dirlo perché il legislatore anche l'ultimo decreto semplificazioni ce le cambia di continuo quindi io stesso corriamo di continuo diciamo in generale lo evoca il termine diciamo la ristrutturazione edilizia si fa qualche intervento leggermente in più rispetto a manutenzione straordinaria ma ti devo dire che più si va avanti con i dettagli di semplificazione più la differenza sta diventando minimale quasi impercettibile perché stanno introducendo una manutenzione straordinaria una quantità di fatti specie particolari che sostanzialmente tendono quasi a riconfigurarla come una ristrutturazione edilizia però davvero ti assicuro che è difficile stargli dietro perché non c'è decreto semplificazione in cui non ricambiano la definizione del 380 allora io salvo diciamo mie sviste le cose più significative credo che le abbiamo illustrate ora poi via via il testo è stato come dicevo anche modificato per farlo funzionare meglio però rispetto a concetti che avevamo già diciamo discusso ecco non so se a Manola Roberto Fabrizio gli vengono in mente delle cose particolari che mi sono dimenticato in ogni caso tanto ora sono le 6 se Jacopo non mi correggi credo che dobbiamo chiudere quindi eventualmente facciamo tutti interocale per andare avanti i commissari hanno il materiale con cui anche oggi è stato possibile seguire la commissione chiedevo semmai all'ufficio se per le prossime sedute che riguardano anche altre tematiche la documentazione è disponibile è pronta ecco ci stiamo lavorando non so se per il lunedì prossimo saremo nelle condizioni già di darla ma scusate ma le osservazioni questo è stata un'illustrazione generale poi noi abbiamo tutte le osservazioni normative sì no ma scusate infatti c'è un fraintendimento questa è l'illustrazione no dopodiché le osservazioni vanno vanno discusse io l'unica cosa che suggerirei non so se Jacopo è d'accordo è facciamo una discussione diciamo così che sia per temi non per numero di osservazioni perché si fa male la discussione per numero di osservazioni cioè voi avete tutto il materiale a disposizione no avete un'illustrazione di massima di massima avete un'illustrazione delle cose più importanti guardatevele e decidiamo decidete cosa vogliamo discutere no perché ci sono che ne so alcune osservazioni sono tutte uguali faccio per dire sono tutte sullo stesso tema quindi tra l'altro voi trovate in questo testo che è stato mostrato oggi trovate no il riferimento alle osservazioni a cui a cui si fa riferimento e a volte vedete che delle modifiche fanno riferimento magari a più osservazioni vedete Fabrizio ne fa vedere una a caso 224 modifica introdotta in esito alla contradduzione dell'osservazione 309 e 472 cioè poi Riccardo non ci sono problemi tanto le osservazioni vanno poi votate una a una a livello di parere quindi non è un problema faccio a livello di discussione cioè di isolare i temi per poterli discutere in modo organico ecco tutto qui isoliamo i temi però guardiamo ogni singola osservazione perché io ragazzi le voglio vedere le osservazioni non perché se no viene meno il compito mio io vanno analizzati osservazioni e allora se volete se volete dalla prossima volta conclusa questa illustrazione generale si scorrono le osservazioni quando voi ritenete che ci si debba fermare per capire meglio o per discutere lo si fa non è un problema per me si può fare anche perché poi l'osservazione a volte viene scritto parzialmente accolta ma magari l'osservazione chiede duemila cose è bene capirle bene no? le singole osservazioni specialmente queste qui normative comunque ne riparliamo vabbè però ecco dicevo lo dico anche a Jacopo le modifiche sostanziali introdotte sono queste no? io sto leggendo dalla prossima volta si può anche scorrere le osservazioni e via via che quelle osservazioni richiamano le cose che abbiamo visto oggi si rinvia a quello che è stato illustrato oggi laddove invece ci sono dei temi che oggi non sono stati illustrati oppure ci possono anche essere osservazioni che sono state respinte e che magari la Commissione vuole discutere allora ci fermiamo e le discutiamo non è non è un problema non so come la vedono come la vedete insomma anche l'ufficio sì sì io per me va bene le modalità sono due quella canonica è quella che suggeriva Riccardo cioè si scorrono le osservazioni se nessuno ha da eccepire si scorre si va avanti fino a quella che il singolo consigliere ritiene che debba essere approfondita scusa ma io voglio dire scusa cioè l'osservazione si può leggere si dice non è accolta accolta non è accolta accolta magari ma si guardano cioè un'occhiata di vedate ragazzi si va bene se la Commissione vuol lavorare così si scorre registro si legge registro e via via che c'è la necessità di soffermarsino si fa nel senso che quando l'osservazione richiama i temi che abbiamo discusso oggi si spiega e problemi non ce n'è salvo che uno non voglia discuterli ovviamente e via via che invece nascono esigenze novità problemi ci si ferma ci sono problemi scusate guardate l'elenco che mi sei dato il primo la numero 6 la numero 6 chiede una serie di cose e noi si rimanda a un'osservazione addirittura che ha fatto il come si dice il collegio dei geometri e tutto quanto se noi si entra in quell'ottica lì non ci si leva più le gambe ragazzi perché leggere il riassunto che è già un bel po' puoi dire guarda quel punto lì l'abbiamo già discusso l'abbiamo accettato con un altro accoglimento di un'altra osservazione non lo so se ci si arriva al fondo io lo dicevo per questo ho capito ma allora io come commissario non lo so io ho fatto ho detto pure certe cose poi citetelo voi l'osservazione io l'osservazione la voglio vedere prima di dare un parello è quello su questo non c'è ombra di dubbio su questo è un consiglio io sono tranquillissimo ma è l'osservazione la voglio vedere e tanti però scusa se è bucato ascoltami un secondo ma ci mancherebbe altro però te l'osservazione la puoi vedere non mi si può venire a dire e non ci si leva più le mani a me non mi interessa a me l'osservazione io sono un commissario faccio parte della commissione la voglio vedere e voglio capire punto ma Riccardo però ti sta dicendo due cose diverse nel senso che nel senso che te il registro c'erai no? quindi te attraverso il registro puoi leggere sia la sintesi dell'osservazione sia la risposta diciamo a livello istruttorio dopodiché dopodiché te hai diritto a venire anche l'osservazione per intero no? quindi laddove diciamo tu voglia approfondire ancora di più l'ufficio ti deve dare la copia dell'osservazione integrale no? quando diciamo la sintesi non ti torna o vuoi approfondire quindi secondo me la ragionevole via di mezzo poi sentiamo anche cosa dice il presidente è che noi le scorriamo via via non è che si tratta di che significa scorrere e chi vuole capire che significa scorrere ti faccio ti faccio un esempio ti faccio un esempio osservazione numero 8 no? qui il tema sollevato è e uno spiega quali sono i temi sollevati e il parere dell'ufficio è no? Riccardo Erra che ha avuto la possibilità di leggersela prima dirà qui non mi torna qui vorrei capire meglio e ne discutiamo cioè non leggere tutto fare una fare un'illustrazione rapida di quello che abbiamo sotto mano perché spesso si ripetono Riccardo capito le osservazioni quindi in questo modo Riccardo non era commissario ma era presente perché me lo ricordo quando abbiamo fatto abbiamo visto le osservazioni del piano strutturale in realtà la situazione è stata analoga cioè chi illustrava e presentava l'osservazione mica si leggeva il testo di quello che era arrivato con consegna all'ufficio faceva una sintesi della richiesta che era stata prodotta dall'osservante e di quella che era stata la deduzione dell'ufficio io credo che si possa fare in questo modo anche Sì anche se Jacopo devi tenere conto che le osservazioni al piano strutturale vertevano in genere sulla penetrazione territorio la cosa che qui è un po' diversa è chiaro che poi c'è anche un raccordo tra le osservazioni e fra le deduzioni che hanno portato alle modifiche all'accoglimento parziale o al rigetto delle osservazioni quindi non credo che abbia alcun senso legge l'osservazione tanto per cominciare dal punto di vista dell'accoglimento semmai sarebbe utile se l'ufficio dicesse in che logica si è mosso rispetto alla richiesta e se ci sono delle osservazioni in parallelo Scusa Jacopo non lo condivido io ascolta c'è quella del collegio dei geometri della provincia di Lucca fa un'osservazione lunga una parte parzialmente accolta io voglio capire perché alcune cose non sono state accolte se ne discute comunque andiamo avanti poi ognuno dopo Scusate posso scusate posso io una cosa secondo me vedrete che lavorando il problema si risolve da sé nel senso che è vero Riccardo ci sono alcune osservazioni hai ragione ma sono 4 o 5 non di più che siccome magari l'hanno fatti dei corpi intermedi sono su vari punti quelle lì è chiaro che c'è da soffermarsi di più però ci aiuta molto il fatto che essendo osservazioni normative qui volta a volta è individuabile facilmente l'articolo che ci chiedono di modificare ok quindi le osservazioni dei singoli sono su vari articoli quindi uno dice qui ci hanno chiesto di modificare l'articolo a questo scopo e la risposta è stata questa quindi secondo me non è un problema cioè si riesce tranquillamente a lavorare con un'adeguata sintesi insomma delle richieste ma nell'interesse di tutti cioè per poter lavorare bene non è che infatti io non ho dito mica appunto nessuno per cercare di lavorare meglio tra l'altro io non ho meglio io perché ti ho fatto vedere sulle norme quelle che di fatto rispetto alle osservazioni hanno prodotto un accoglimento e già una modifica della norma quindi voglio dire mi sembra che se si lavora in maniera organizzata poi alla fine noi siamo per lavorare in maniera organizzata e bene senza senza nessun ostacismo senza nessuna cosa va bene dai ci vediamo lunedì va bene allora ragazzi ci vediamo lunedì buona serata anche a voi ciao a tutti ciao 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 poi poi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti